Buongiorno Roberto Pavanello, ciao Roberto. Buongiorno, buongiorno e buone carte a voi. Roberto si prepara a raccontarci Sanremo, andrà, è vero Roberto, sarei sempre lì come sempre, giusto per raccontarlo. Alessandro Tabaglione di Sky G24, vedo sulla testa, ma c'è, sopra i caschi da futbolo americano, ricordiamolo è anche arbitro e futbolo americano, e poi il grande ritorno dopo tanto tempo del maestro The Voice, Francesco Reppi. Grazie per il maestro, e soprattutto per il tanto tempo. Ti ho visto in altri canali, ma da noi da un po', sai, mondiali. Mi hai visto in altri canali e non mi sono visto io, è vero? Qua e là, non so, mi raccontano, mi raccontano, c'è il repice lì, c'è il repice là, e io, quindi con il repice si spazia, no? Si spazia un po' su tutto, io vi dico subito una cosa, così ce lo leviamo subito dalle scatole sul discorso che mi chiedono alcuni la carta, la carta non carta. Ricordiamo un secondo per non fare confusione, intanto domani, poi cominciamo dibattito, Juve Monza stasera, Supercoppa ieri, la Roma, tanti chiedono il Zaniolo, un sacco di cose allegri anche, sai, tanti, Francesco, poi ti sanno, grande stimatore allegri, l'ultima botta non è andata giù, ma ne parleremo nel corso della puntata. Io vorrei togliere subito questo discorso, poi se qualcuno vuole fare un'aggiunta me la faccia sui discorsi, tra virgolette, processuali. Uno, sapete cosa succede domani? Domani è il giorno in cui viene deciso se verrà riaperto il discorso, quindi revocata la precedente sentenza e assoluzioni, procedimento, se verrà riaperto il discorso relativo alle plus valenze. Quindi cosa vuol dire? Che se chi dovrà decidere penserà che non ci sono elementi nuovi tali da riaprire un giudizio già appunto che c'è già stato, in quel caso non verrà riaperto, altrimenti verrà riaperto. Se verrà riaperto non vuol dire che poi questo porterà necessariamente a delle condanne, ma si valuterà se le nuove prove portate, che saranno le intercettazioni o quello che è, integrino o meno una fattispecie illecita o comunque per sanzioni o quello che è nel giudizio sportivo. Quindi domani sapremo solo se anche sulle plus valenze, al di là delle famose manovre stipendi, ci sarà o meno un giudizio sportivo. Questo è un tema che verrà chiarito domani. L'altro, oggi si parla della carta a Ronaldo, c'è molta confusione su questa cosa e vedo due cose che non mi fanno impazzire. Una, vedo anche il Corriere della Siera oggi ha scritto la carta che inguaia la Juve, cioè dandolo come dato di fatto, invece quella è la tesi della procura, ricordiamolo sempre. L'altro, da parte degli juventini, è dire ma è una carta straccia, non è firmata. Allora io vi dico la mia, questo è un discorso dove serviranno dei consulenti contabili intanto, quindi non pensate che io o l'avvocato qualunque che fa altro nella vita possa rispondervi. Ci saranno consulenti, periti, non date credito a troppe, a troppe, non so, facilonerie sul tema, che sarà un giudizio difficile che forse non si desaurerà in uno o anche due gradi. Quindi non crediate che vedete una carta e giudicate in un secondo quello che è. I dati sono due. La procura ritiene che quella carta che avete visto Ronaldo, anche se non firmata o quello che è, integri un ricognizione di debito. Cioè è come se la Juve, anche firmando da sola perché non ha firmato Ronaldo, dica c'è un debito, che poi non è stato però riportato nel bilancio. Un debito sicuro, secondo loro. La tesi della Juve, che però ancora non abbiamo letto, io ve l'anticipo in qualche modo, diciamo ragionevolmente, no, senza specificare troppo così, è che invece fosse una carta, una scrittura privata, con, ancora da perfezionare, cioè con omissis, X non c'è la data, e un po' di cose sottoposte comunque a condizione. Perché è vero che c'è anche l'incentivo all'esodo se va via, se non lui doveva rimanere, però in ogni caso c'è una condizione che prevede, in un certo caso, il pagamento e soprattutto capire in quale bilancio eventualmente andrebbe computato. Io ricordo sempre una cosa, che Ronaldo quei soldi non li ha avuti e a oggi non li ha richiesti. Allora qualcuno, come altri giocatori, allora qualcuno può dire, la tesi della Juve è, ma scusate se alcuni non li hanno neanche richiesti, cosa dovevo mettere io in bilancio quel giorno? L'ha forse nei bilanci dopo. Dico anche che la tesi contraria è, se tu ti impegni a pagare con certezza una cifra, sai di avere quel debito, lo fai come accantonamento, lo fai come vuoi, lo devi riportare. E per spiegare che è una cosa complessa, io l'ho fatta un po' rapidamente, dove dire è carta straccia, oppure è la carta che inguaia la Juve, come viene affermato assertivamente sul Corriere della Sera come titolo, mi sembrano due tesi come sempre sbagliate, uno riporta la procura, uno riporta la tesi della difesa, mentre credo che poi i processi si vadano fatti lì, ecco. A parte Francesco Repici, non so cosa sia combinato. No, sto cercando di posizionare questo attrezzo, non è facilissimo, però ce la posso fare. Comunque, se su questo tema, io ho voluto fare questa introduzione, credo dando le due versioni, sia sulle Blues Valencia di domani, sia su questo, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ovviamente ve lo faccio aggiungere con piacere, se no passiamo al campo. Io lunedì avremo con Guido Baciago anche l'avvocato Intrieri, lui è dubbioso, per esempio, l'avvocato penalista Cataldo Intrieri, che è tifoso milanista, lo diciamo ogni volta, no Juventino, lui dice che secondo lui comunque non andavano computate nel bilancio lì, perché erano cose che sarebbero state pagate successivamente, però altri sostengono che almeno l'accantonamento prestito, insomma, è un casino. No, ma il problema lì è che non l'ha firmata Ronaldo. Tra l'altro non è firmata, non c'è una data espressa, c'è scritto luglio. Cioè, ma non è, purtroppo per la Juve, non è un aggravato, cioè nel senso che... Perché lo dici tu? Da quello che ho capito, eh, leggendo, poi ho letto come vuoi, perché, come dire, era una cosa che aveva reso perplesso pure Ronaldo, come ha detto io sta roba non la firmo. Eh, ho capito, ma quindi allora, e quei soldi non li prendi più allora? No, eh, il problema è che magari, eh, insomma, si è capito che Ronaldo non volesse firmare quella roba perché non ci vedeva molto chiaro nella vicenda. E quindi magari qualcuno ha agito voglio di sua sponte, adesso, ripeto, è inutile però, hai ragione, cioè è inutile mettersi a fare delle cose che non... Ma fino adesso sono solo concetture, nel senso che... Sono le accuse, è una parte delle due che parla, certo. Eh, sì, ma ripeto, quelle che facciamo noi sono concetture, nel senso che l'accusa ha le sue carte, la difesa immagino stia studiando il modo per opporsi a quei... A quelle accuse, quelle che facciamo noi, perché oggi, giornalisticamente parlando, ciò che accade è che... Che proprio il... la mancata firma di Ronaldo è quella che in qualche modo, tra virgolette, inguaglierebbe la Juve. Cioè, come a dire, Ronaldo... Eh, riguarda questa roba... Se quei 20 milioni non sono usciti dalle casse, e non sono stati messi quindi a bilancio... Se lo facciamo noi, facciamo in un altro modo, è quello il punto. No, Nero, se Ronaldo non accettiamo... Non lo so, ma anche questo è tutto quello... Ecco perché sono concetture. No, però Nero, almeno, non è una tesi neanche della Procura, è il Nero, cioè almeno nell'atto di accusa, non lo so... No, ma non è nessuna tesi... Io ti parlo delle concetture giornalisti, io ti parlo perché secondo me certe cose vengono scritte in una certa maniera. Poi, ragazzi, ripeto, ma chi... Ma, cioè, veramente bisogna essere uomini di legge o non... E contabili, no, ma è di legge e questo avvocato penalista importante che Cataldo Entrieri mi dice ce lo deve spiegare un contabile bene in quale bilancio va messa anche una scrittura privata in cui tu dici io ti pagherò quando, se, andrei via, se... Cioè, sono cose complicatissime che tutti noi risolviamo in due righe su Twitter dicendo è carta straccia oppure è la prova... Sì, che poi non è solo la questione di Ronaldo, eh, cioè... Cioè, tutta... Quello è il discorso manovra stipendi, poi c'è tutto il discorso del Blues Valenza, c'è tutto... Comunque, è un discorso... Tu, Francesco, sei tra i, tra virgolette, tra i colpevolisti, tra i... No, io non... No, 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 questo è una roba che proprio... Cioè, allora, questa è una cosa che va bene al di là del discorso calcistico. Guardate, ultimamente sono stato, come dire, sollecitato su un punto poi peraltro se ne è uscito il garante spiegando questo Alessandro lo sa meglio di me ma anche Roberto immagino ieri il garante se ne è uscito con una roba dice cerchiamo di non pubblicare le cartelle cliniche anche di persone che hanno compiuto dei gesti odiosi criminalmente molto pesanti sappiamo di chi parliamo ovviamente e c'è chi ha risposto no aspettate però se quella cartella clinica mi dimostra e quel personaggio che stava catturando Matteo Mazzini è in una condizione veramente molto difficile di vita potrebbe essere una spiegazione per cui magari tra virgolette ha deciso di farsi beccare cioè c'è tutta una questione di andare a specificare che tipo di patologia ma io sono d'accordo con te esatto figura a scrivere che ha il Viagra in casa ma cosa aggiunge o toglie no no a scrivere che è il Viagra in casa però ti fa capire più o meno il tipo di personaggio ma giornalisticamente secondo me c'è la questione esiste ora io però sono tra quelli per cui il caposaldo è fino a quando non si dimostra che qualcuno ha fatto una cosa non si parla perché ma non perché c'è la Juve o c'è ma perché sennò va a farsi benedire tutto cioè per me è talmente importante questa roba qui è come dire io faccio un lavoro e devo essere retribuito ma non perché voglia prendere cento piuttosto che un milione ma perché è il principio sul quale si basa il nostro la nostra convivenza civile per cui se saltano sti parametri salta tutto ma non nel calcio in tutto e a me non mi va bene purtroppo sono saltati temo da un po' non a parte la Juve ora dico sono saltati da un po' ogni tanto alcune garanzie minime non mi sa bene non mi sa bene io penso che in realtà bisognerà semplicemente aspettare quello che accadrà quello che ci sono delle aule dove si discute e si dibatte di queste robe proprio in queste aule in questi giorni ma non quelle di tribunale quelle del Parlamento c'è un ministro della giustizia che si sta battendo perché si cambino le norme sulle intercettazioni e non lo dico io lo dice il governo lo dice il ministro ma lo dicono lo sa chi frequenta le procure chi parla con molti avvocati con molte parti in causa che c'è stato cioè non è in discussione l'uso dello strumento delle intercettazioni certo soprattutto in cose mafiose e cose del genere uno potrebbe discutere uno potrebbe discutere però scusami uno potrebbe discutere se poi scherzi a parte ora è la Juve ma anche fosse la Fiorentina se poi davvero si debba intercettare per sei mesi ogni dirigente di una squadra di calcio per capire se contabilmente abbiano messo in un coso a meno che non ci siano discorsi come il problema Massimo Alessandro però qui è tutto molto più complesso perché noi sappiamo bene Alessandro che seguo queste robe qui io non occupandosi prevalentemente di calcio ma di altro sa bene che magari ascoltando me che faccio il giornalista sportivo si può risalire a una questione che magari ha poco a che fare con il calcio ma può interessare altri ambiti e questa cosa delle intercettazioni è delicatissima cioè per ascoltare te ci deve essere in partezza un fondato motivo le intercettazioni sono uno strumento nel nostro ordinamento le intercettazioni sono uno strumento per cercare la prova della prova non solo la prova stessa no assolutamente no l'impatto non va con il dipartimento però ti posso dire Ale che se non ci fossero state d'accordissimo se non ci fossero state le intercettazioni e tutte quelle intercettazioni probabilmente non si sarebbe fatto una battaglia così approfondita e così pesante a Cosa Nostra o altre organizzazioni criminali qui l'argomento è molto Francesco ieri in Senato Ilaria Cucchi diceva che se fosse esistita all'epoca la riforma Nordio il processo su suo fratello non si sarebbe mai aperto sulla morte del fratello non si sarebbe mai aperto certo temi complessi temi complessi la cosa certa io lo dico con Roberto l'abbiamo discusso spesso è sul pubblicarle quando cosa perché pubblicarle il resto farle o non farle no per rendere idea Massimo cioè per me pubblicare quella roba di Alessandro Morgi all'epoca fu una cosa esatto è troppo grave è troppo grave è troppo grave devastante non voglio dire che cavolo c'è voglio dire ma perché devi rovinare una famiglia che senso ha veramente l'hai distrutta voglio dire sai qual è la cosa brutta sai qual è la cosa brutta Francesca che in questo paese o forse siamo così gli esseri umani poi siamo tutti moralisti quando tocca agli altri anche sull'intimo sul privato dove non c'è un reato perché fortunatamente poi speriamo che l'adulterio non sia così diffuso così per stare meglio tutti ma fortunatamente non è un reato eppure lì tutti da fuori dicevano beh se lui non l'avesse portata lì non l'avesse fatto la proposta sarebbe ma è una cosa come dire non avrebbe dovuto temere ma è il quinto mondo è il medioevo non so ma manco poi come se siamo alla tanta inquisizione esatto tutti noi siamo perfetti nella vita privata ma figurati comunque dai ragazzi io hai il metodo molto perfetto ma per necessità non per virtù non farmi intagare che ho pure conosciuto l'affortunata ho conosciuto l'affortunata quindi non voglio sapere ma a figure c'è niente da faccio anzi rivediamoci presto andiamo poi verso il calcio un'ultimissima cosa alcuni hanno detto che c'è stato un tweet di Ziliani che ha detto che Agnelli lo ha querelato poi ha fatto più tweet diciamo lamentandosi un po' delle querele ora qua premesso che anche le querele vanno poi finiscono in giudizio quindi non vuol dire che uno sia colpevole o meno quindi si vedrà quindi se Ziliani non ha diffamato non verrà condannato se ha diffamato sì l'unica cosa che dico a Ziliani vabbè che non ho nessuna voglia di interagire con lui però è che se tu come dire lo paragoni un giorno a Hitler un giorno a quello metti la foto della seconda guerra mondiale dei campi di concentramento una cosa così cioè non ti sconvolgere non fare la vittima se puoi perché io mi medesimo se io negli anni in cui della rivalità a Juve Inter con Moratti avessi fatto ogni giorno un tweet su Moratti paragonando ai nazisti a quello e quello oddio se un giorno mi arrivano a querele Moratti vado a spiegare le mie ragioni però quel vittimismo almeno no perché non è un poverino che ha scritto una cosa un articolo di giornale perché nulla fa passare come la censura ai giornalisti non è che se qua Francesco Repice dice una cosa magari su qualcuno beccherà querele oppure là li diremmo ha ragione è una persona che da anni sta vivendo professionalmente per diffamare poi se il giudice dice che non sono diffamazioni fa benissimo vince lui è ottimo per lui però lamentarsi che prima o poi si indiscuta in giudizio ecco mi sembra un po' forte perché credo che lui vada un po' oltre rispetto alla normale critiche che ci sta benissimo sulla Juve su Agnelli su tutto quello che c'è allora io vi chiedo questo andiamo un attimo questo era il mio ultimo ultima premessa e poi andiamo un attimo sul campo e non chiedo a Francesco per primo che impressione ti ha fatto ieri ultima cosa extracampo il saluto della vecchia dirigenza juventina e questi nuovi cosa ti sembrano troppo tecnici troppo freddi preparati ti sembra che manchi qualcosa alla Juve sicuramente non sono dei tifosi quello che mi viene da vedere o perlomeno non sono tifosi come Andrea Agnelli io credo se posso dire come la penso ma lo dissi qua che la differenza tra la Juve che vinceva e le altre società che non vincevano è che alla Juve c'era una presidenza tifosa cioè ragazzi io posso pure allora non entro nel merito della questione che abbiamo parlato fino adesso ma se porto Cristiano Ronaldo nella mia squadra facendo quella acrobazia finanziaria e non parlo di cose lì parlo comunque di quello sforzo finanziario che ci è voluto per portare un campione simile nella mia squadra io sono felice perché io credo che Andrea Agnelli sia prima di tutto tifoso della Juventus e quando hai un presidente tifoso hai un presidente come Dino Viola hai un presidente come Franco Sensi hai un presidente come Massimo Moratti cioè dei presidenti che vogliono alzarsi in piedi e gridare gol non so se mi spiego e vedendo un campione che loro hanno acquistato con la maglia con i colori loro addosso cioè io penso questo quindi credo che magari questi faranno benissimo sicuramente insomma stiamo parlando di personaggi di altissimo profilo tecnico per quello che riguarda le finanze e la gestione delle società io credo che e sono ancora attaccato alla figura del presidente tifoso perché credo che quando un presidente tifoso fa il bene della sua squadra anche se ne fa il male lo fa a fin di bene però Francesco due osservazioni la prima Ferrero è tifoso giuventino il nuovo presidente qui non è un manager e basta che sto chiamato no però l'utilizzo la passione la passione ma non conosciamo la passione di Ferrero no no certo però diciamo Andrani è proprio è una specie di redice Andrani è un uomo di Elkan ma gli Elkan sono tifosi della Juve cioè la proprietà è fatta dai tifosi della Juventus non è un fondo americano cioè comunque John Elkan Lapo Elkan i figli di John sono tutti tifosi di venti e Andrea che è comunque proprietà della Juve non ho dubbio però Roberto io credo che ci sia ma non so probabilmente sbaglio un passo proprio fatto nei mesi scorsi negli anni scorsi anche Elkan l'aveva fatto chiaramente capire adesso che quel tipo di gestione poteva essere rivista eccetera e credo che il passo si sia fatto non verso la passione ma verso la sostenibilità dei conti il che è giusto è legittimo ma è sono contento che ci sia fatto questo passo giustizia io sono sempre contento quando c'è un presidente tifoso perché quando c'è un presidente tifoso ho vinto tutte e due le volte una cosa scusate è pezzo però Francesco si hai ragione Ale però però ho vinto però è stato meraviglioso bellissimo è stata una roba arrivare in finale di Coppa dei Campioni ricordare quella squadra cioè io ho avuto una squadra che ha avuto un centro tifoso di una squadra un presidente ha fatto un centrocampo con Ancelotti Sareto Polcao e Bruno Conti tu dici io posso morire lì scusate una cosa torniamo su questo io volevo chiudere il discorso siccome alcuni hanno detto ma davvero c'è stato un tweet in passato non è su questo che c'è la querela io per curiosità ve lo mostro per essere preciso anche nei confronti dello stesso Ziliani che magari potrebbe dire che l'abbiamo riportato male diciamo ci sono cose più allegre di scrivere questa cosa qui con la maxifoto di Hitler dopo il titolo di oggi Juve niente contatti Agnelli Malavita peraltro non c'erano veramente contatti Agnelli Malavita pronto in gazzetta il titolo Hitler mai toccato un ebreo e con l'immagine di insomma diciamo no il buon gusto il livore capite che alle persone non fa piacere ecco se fanno un tweet così su di me dopo il titolo Zampini coso Hitler mai toccato un ebreo la foto di Hitler così è un piccolo esempio di come il livore troppo spesso veramente non so abbia trasceso rispetto alla normale critica giusta critica bene che ci sia qualcuno che critica i dirigenti che vincono le società che vincono il potere ottimo se c'è però così non è il massimo questo è uno dei piccoli esempi tra l'altro diceva una cosa non vera cioè ironizzava sul titolo contatti niente contatti Agnelli Malavita effettivamente poi viene stabilito che non era Agnelli a tenere contatto con alcun esponente della malavita chiusa parentesi Massimo vorrei tornare un attimo sul tema della sostenibilità del quale ha parlato Francesco vai 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 fatti fatti chiuso la nuova gestione della Juventus oggi secondo me parola di sostenibilità è una parte del problema perché sono usciti ieri credo i dati sul mercato di questo di questo gennaio ovvero le varie leghe quanto hanno speso al momento in trasferimenti abbiamo una Premier League che in pochi giorni spende più di 300 milioni di euro abbiamo la Serie A che ne spende poco più di 6 milioni e poi c'è 8 9 la Ligan la Bundesliga tutti più o meno diciamo in quel range questo è il problema ragazzi in Europa abbiamo una Lega che sta facendo tutto quello che vuole e l'unica possibile rivale in questo senso è il Paris Saint Germain perché è di proprietà di uno Stato pieno di petrol dollari quindi Paris Saint Germain e Real Madrid perché Real Madrid in Spagna è la Spagna però sono casi non parliamo di sistema calcio giusto secondo me in Italia stanno tutti quanti dormendo non si rendono conto che non siamo più nemmeno provincia dell'impero siamo un sobborgo dell'impero io sono d'accordo con te Roberto però quando vedo che c'è un club che in pochi allora prende Cucu come si chiama quello non mi ricordo Cucumella Cucurella non so 67 milioni Cucurella 67 milioni poi in quella stessa squadra arriva un prestito fino a giugno prestito con 11 milioni e poi quello stesso club va allo Schachter Doniesk e prende uno che si chiama Mudrik per 100 milioni io dico guardate che preferisco che le cose si facciano così da me che magari perché poi noi parliamo parliamo però adesso io l'altra sera scuso l'autocitazione mi perdonerete ma facendo Napoli-Juventus ho cominciato a pensare poi l'ho detto c'è qualcuno che in Champions si deve preoccupare se questi vanno così ah beh è sicuro non con i soldi però spesi da quelli là no no certo è vero evidentemente c'è qualcuno che capisce di pallone però Francesco Felix Ploa un anno può capitare è sempre capitato nella storia però bisogna vedere se tra tre il Napoli sarà come City cioè è difficile alla lunga con mezzo certo hai ragione Massimo perché poi quei processi là sono molto solidi nel senso che riescono sempre a rinvigorire ad auto rinvigorirsi però un altro anno tra due anni il punto è quello di Roberto è il sistema cioè una singola squadra non sarà in grado di tenersi Kvaraxelia perché arriverà qualcuno con i soldi in bocca e se lo porta via ma come Leao andrà via come Skriniar come forse Vlaovic ho chiesto chi per loro è difficile in questo momento tenere lì ma io posso dire per dimostrare quanto siano loro in errore con il sistema penalizzi loro alla fine che si giocheranno una partita tra di loro ogni anno poi arriva uno che di pallone ci capisce di più e li sbatte fuori come è successo l'anno scorso e come Ancelotti allora io sono contento cioè fatevi queste cose poi rimanete solo voi e qui come come l'Ailander alla fine rimane solo uno cioè noi ci faremo il nostro calcio perché guardate che calcio si può fare perché se lo sono andati a prendere una volta caraschelia magari uno non allora in questo momento la domanda è Osimene e Holland si equivalgono? per meno non lo so non credo però forte Osimene però forte forte Osimene però forte mi sa che Holland è una specie di belva proprio che però certo Osimene è una storia a me questo visto dal vivo non mi sembra tanto di meno no 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 l'altro giorno è stato impressionante visto così io già tre quattro volte che lo vedo giocare live contro la Roma ha fatto una cosa sbagliata Smalling una in tutta la partita e questo ti ha purgato da una posizione mai vista vero vero cioè non insomma io adesso il paragone secondo me ci sta è più forte va bene però questo non è che è molto sotto è chiaro che puoi dire ragazzi il Napoli alla fine che prende Kvara non so quanto 10 a 15 20 milioni quello così quello cos'ha no anche sa 500 mila euro ha dato 5 gol non solo alla Juve ma al Liverpool li ha dati allora probabilmente c'è anche chi è capace no cioè di vedere andare Francesco la capacità di fare scouting andare a prendere giocatori forti sei una buona organizzazione sportiva come al Napoli poi te li portano via però poi non riesci a costruire un progetto no te li portano via fate fate tanto voi prima o poi guarda che prima o poi andranno a sbattere perché prima o poi già se legge sulla Brexit di tutti loro prima o poi andranno a sbattere su questa roba qua perché non è possibile 11 milioni per un prestito fino a giugno oh ma che siete matti qua ti dicono qua lo sai che il tema caro non lo riapriamo il tema Superlega così cosa però ti dicono dire questa cosa della Premier e poi schierarsi contro la Superlega vuol dire diventare come la Lega noi siamo questi invece secondo me lì è la stessa cosa perché lì ti fanno fare il comprimario se tu avessi fatto ti avrebbero fatto fare quello che arrivava lì cioè vabbè 4-1 Napoli-Liverpool non 5 insomma siamo lì diciamo allora ragazzi un secondo sulla Juve siccome sei andato su Napoli-Juve Francesco poi ti chiedo di Zaniolo e di tanto altro della Roma che alla fine fa tanti risultati lo sai la critica è una cosa che noi i juventini abbiamo già vissuto per varie cose la critica intanto i suoi risultati li sta facendo ci dirai a che punto è la Roma però un secondo sulla Juve facciamo qualche minuto di Juve sul campo Napoli-Juve è stato un massacro lo possiamo dire senza problemi ti chiedo vista da lì c'era un primo tempo in cui tu dicevi stiamo a vedere come va a finire o tu hai visto un costante un costante predominio che ci sono proprio due squadre di livello diverso cioè sono stati tanti errori individuali e tanto entusiasmo del Napoli o una sorta di massacro dall'inizio per te allora io penso che per 20-25 minuti la Juve abbia fatto la Juve dopo aver preso il primo gol e perché vinceva i duelli in mezzo al campo aveva cominciato a vincerli aveva creato due ottime opportunità aveva fatto gol ha rischiato di pareggiare su quella roba di chiesa a metà tra un kiri e un cross non so cosa fosse poi succede qualcosa che secondo me però non può essere spiegabile tu puoi anche prendere il terzo gol e va bene in situazioni molto particolari però è altrettanto vero che insomma non puoi mollare in quella maniera secondo me non esiste secondo me non esiste è lì che bisogna lavorare perché poi sai se uno fa otto risultati consecutivi e non prende un gol d'accordo non avrà giocato contro il Brasile di Pelé però insomma è una è una è una è una come si chiamano è una è un banco di prova piuttosto attendibile giocare otto partite vincerle tutte e non prendere gol perché il campionato italiano è un campionato difficile è un campionato complicato poi succede questa roba qui e ti rendi conto che il Napoli quando comincia a giocare e vede che quel modo di andare ti crea solo dei benefici si gasa 70.000 che ti spingono però non è che di fronte hai una squadra qualsiasi hai una squadra che si chiama Juventus e che nonostante 70.000 nonostante quel gioco riesca a essere così veramente dirompente tu devi devi farla Juve e se no le differenze dove sono le categorie dove sono ecco questa è la mia critica maggiore perché secondo me bisogna starci in campo con la testa bisogna starci con i sentimenti perché se no non va bene e quello significa secondo me non starci con i sentimenti cioè la resa è qualcosa che non deve appartenere al DNA di una grande squadra anche se si trova di pronte è un avversario più forte ti chiedono e poi voglio sentire anche Ale e Roberto che l'ho sentito dopo la partita e Repice ma la critica David è uno critico spesso con Allegri e ti chiede ma la critica a chi è? E ai giocatori? Oppure ti potrebbe dire il carattere lo devi anche infondere no? secondo me secondo me il carattere cioè come dire il coraggio se non ce l'hai non nessuno te lo può dare secondo me lì devono tirar fuori gli attributi calciatori che vengono pagati profumatamente e che vengono considerati come li abbiamo considerati prima della partita con il Napoli cioè dei ragazzi che si stavano riprendendo mettendo in una certa maniera io l'unica novità tattica che ho notato messa da Massignano Allegri è stata la transizione palla al piede di Alessandro messo sulla linea dei tre difensori cioè vi ricordate che quello che faceva Giellini portava la palla a lui da una parte all'altra del campo prima lo faceva Volucci esatto chiesa tersino perché purtroppo ti costringono loro Alessandro secondo me ti ammazzano loro perché lì secondo me si è vista la cosa perché lì è previsto con chiesa che fa l'esterno alto è previsto il raddoppio di una delle due mezzeali e di uno dei difensori cioè va il difensore e poi va il raddoppio della mezzala questo non accade né a sinistra né a destra perché sia Karaschelia da una parte che quell'altro dall'altra se li mangiavano cioè le due catene se li mangiavano proprio se li mangiavano proprio cioè io ho visto sull'azione del gol che porta alla rete col cross di Karaschelia per Osimene Osimene che va da solo salta e McKennie che rimane lì cioè il povero il povero il povero Danilo che fa quello che può lì dietro non trova mai un compagno che lo va a aiutare per il raddoppio di marcatura io sinceramente quella è la cosa che noto sbagliata tatticamente e noto che quando la novità è portare che aveva reso Alessandro a fare la transizione che faceva Chiellini trovo una novità con qualche rischio di troppo quando mi si dice che lui è portato una squadra troppo difensiva c'era Chiesa e come si chiama Dall'Otra Di Maria Kostic e Milik però Kostic e McKennie raddoppio di là niente Rabiot e e quell'altro raddoppio da quest'altra parte nulla bisogna qualcosa bisogna fare che di fronte sono degli avversari io sono un profano non sono un esperto come te ma io non capisco che cosa vuole fare Allegri con Chiesa cioè se Allegri ritiene Chiesa un attaccante in quella posizione non ci deve giocare mai mai poi lui ha Di Maria che lo vuole mettere anche Zoppo si è capito perché appena ce l'ha disponibile lo mette e si crea un equivoco dietro l'unica punta per cui se gioca Di Maria là dietro non c'è spazio per chi è ma Di Maria ha giocato interno l'estate eh Di Maria ha giocato interno l'altra sera ha giocato dentro era il rifinitore era colui che giostrava dietro la punta e secondo te perché secondo me perché sa giocare a pallone e lo so io ti faccio lo stesso ragionamento te lo sovrappongo la mediana della Juve e la mediana della Roma secondo me manca tanto la qualità io con questo siamo d'accordissimo è una cosa è talmente evidente secondo me che manchi proprio la la sostanza all'immezzo che dai quella palla la deve portare Chiesa partendo da lontano quella palla la deve portare Kostic partendo lontano perché se t'affidi ai tre in mezzo purtroppo quello è il punto non ci non ci non ci non ci giriamo troppo intorno perché io perciò a me piace Allegri io non è che vado a cena con Allegri a me piace Allegri a me piace Allegri perché non racconta balle come Murigno non racconta ti dice le cose come se guardate anzi Allegri è molto cauto Murigno proprio perché niente all'Ice guarda con questo non si può fare niente ma te lo dice te lo fa capire perché te li mettono i panchieri più alto però posso fare posso lanciare una provocazione Francesco sì certo abbiamo detto che Allegri ha mano libera Allegri gestisce non solo il campo ma anche a voce in capitolo del mercato Allegri prende uno stipendio da top allenatore io però non vedo spartito in questa Juve però no spartito però io ti posso dire gli interpreti possono essere dei musicisti mediotti ma se io non vedo uno spartito chiaro e mi faccio una domanda pure sul direttore d'orchestra io però vi posso rispondere così che ci sono degli organici molto più forti che sono lì con la Juve e con la Roma e che se non ci fossero Murigno Allegri probabilmente lì non starebbero perché è il Napoli che sta facendo qualcosa di eccezionale cioè non è che la Roma che fa 85 punti è scarsa 86-87 non mi ricordo con la Juve che ne fa 102 questi stanno facendo una roba e bravi uno applaude e basta perché stanno facendo una roba spettacolare però cioè non è che gli altri poi sono tutti nel gruppone gli altri in sei punti ci sono mi pare in quattro punti Milan Inter Juventus Napoli no Milan Inter Juventus Lazio Atalanta Roma questa è la situazione sono tutte là alti bassi cose così eccetera eccetera e c'è una squadra che sta facendo il vuoto sai qual è il dibattito che può permettersi se va a 13 punti sulla seconda il Napoli può permettersi di fare il torno per l'al contrario cioè fa giocare diciamo così e poi lì voglio vedere come si mettono sai qual è il dibattito tra noi Juventini Francesco un po' a parte mi segno questa domanda su Paredes tra poco ti chiedo che tu hai sempre stimato la Juve a qualche difficoltà tra poco te lo dico il dibattito tra noi Juventini da cui non si esce perché è strettamente collegato al tema allenatore su cui ormai tra i Juventini si discute da 4-5 anni in modo un po' fideistico dogmatico gli uni contro gli altri è come sia da giudicare il parco giocatori della Juve allora c'è chi ti dice che il parco giocatori della Juve è teoricamente superiore a tutti per ingaggi qualità eccetera e c'è chi ti dice tra infortuni e cose non è assolutamente superiore agli altri è l'opportunione tra noi perché c'è chi dice dovremmo essere primi e chi ti dice Allegri fa bene a sparci stare non lo so Robè Massimo Alessandro cioè ma se Pogba si fa male se Vlaovic sta male se Wijnaldum si rompe appena arriva cioè se Dybala ha quei problemi del muscolo ma voglio dire ma Ale com'è Ale com'è la rosa Ale dimmelo tu da tra virgolette fai la fazione contraria com'è la rosa no io ho nessuna fazione no la rosa la rosa della Juve io non la giudico in base agli stipendi perché abbiamo dato degli stipendi assurdi a giocatori improbabili per tanti anni quindi non si può fare la classifica con la calcolatrice la classifica la fai con i giocatori che entrano in campo e ti dimostrano quello che sono sul campo perché se siamo tifosi juventini siamo adepti del dogma che le vittorie e le sconfitte si maturano sul campo quindi come diceva Francesco applausi al Napoli perché sta facendo una qualcosa di trascendentale a livello calcistico quest'anno noi la nostra rosa però è buona è buona anche senza diciamo i Pogba e compagnia sì giusto assolutamente sì è lì secondo me allora come? infatti sta là nel gruppone mentre il Napoli sta facendo qualcosa di pazzesco come ti posso dire ritorno sul discorso il plus che ti dovrebbe dare diciamo in qualche maniera chi guida non lo vedo perché è chiaro che se io ho tutti i miei allora è anche irreale pensare secondo me di poter fare un campionato con tutti i titolari sempre disponibili cioè nel calcio ci stanno però alcuni non li abbiamo visti mai però Ale il mio tema è solo uno allora devo dire una cosa contro Francesco tu stai parlando del campionato dico la cosa contro c'è una Champions indecente fatta dalla Juventus non scordiamo che non siamo sottacene no dall'altro fronte dall'altro fronte devo dirti Ale che la Juve dell'anno scorso già quarta perde che ne so Paolo Di Bala di cui ora ci parlerà Francesco pensando io ora rimedio col palleggio di Pogba con la classe di Maria e tu hai visto Di Maria in tre partite e Pogba non l'abbiamo visto neanche allenarti perdo Morata e compagnia per avere sì Ken e Milic che va benissimo perché Blauic l'hai perso praticamente da un mese e mezzo cioè io qua sono sempre a metà io vorrei vedere di più e sono d'accordo con Alessandro se Allegri Francesco è il top manager che ricordiamo di quei cinque anni incredibili alla Juventus che almeno io giudico così e mi aspetto qualcosa che sono sì quelle otto vittorie per esempio che ci hanno rimesso in ballo però forse poi non questi crolli che capitano ogni volta che il livello si alza un po' che ha risposto Fabio Capello però cioè cosa ha detto ora ricordami e Panucci meglio perderne una cinque a uno che cinque una zero perché se se ne rivince otto da capo eh sì se lo rifassi però domenica ci viva l'Atalanta eh domenica ci viva l'Atalanta eh capito ma se ne vince otto da capo poi eh sì ho capito però ragazzi a me sta squadra sinceramente chi va a giocare contro il Napoli adesso ma non la Juve Manchester City Paris Saint Germain se il Liverpool che ha beccato il Napoli gli ha fatto male 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 come con la Juve il Napoli può da segnarne anche di più eh cioè eh per cui bisogna semplicemente applaudire l'avversario secondo me quando è forte scusate che rispondo al C dopo vai vai Emanuele questa cosa è la Cremonesi ha fatto meglio la Juve della Roma o anche il Milan ha pareggiato a Cremona ora però non esageriamo c'è la Cremonesi giocava con il Napoli con un titolare vero che era il portiere dall'inizio cioè è un po' diverso no? come come clima e tutto poi onora la Cremonesi che ha fatto questa cosa otto vittorie giocate malissimo anche qua c'è un po' di superficialità nel dirlo perché qua siamo negli schieramenti perché tu Juve-Inter Juve-Lazio hai fatto tre a zero e la Lazio è una bella squadra e al tempo era in forma e palla contro l'Inter abbiamo giocato ragazzi contro l'Inter hai sofferto il primo tempo ma nel secondo hai meritato hai vinto comunque un derby alla fine ma meritando cioè ora non è che proprio con la tutte chi se ne frega che ha giocato malissimo nei vinte 8 ho 24 punti in classifica fa 24 però ti dicono se giochi malissimo vinci con la Cremonese e perdi con Napoli cioè sarà sempre così no veramente non è che vinci nei vinte 8 non con la Cremonese nei vinte 8 allora ne hai persa una e nei vinte 8 delle ultime 9 non è che vinci con la Cremonese 8 e una 9 persa male con una squadra più forte basta questi sono Roberto tu che ci scruti noi parliamo spesso qui ogni tanto riflettiamo su questo tema come ti non so sentendoci sentendolo sentendoli parlare pensi come Alessandro che dici da un Allegri qualcosa in più dopo un anno e mezzo me l'aspetto cioè così o pensi come Francesco guarda che Rosa infortuni sei lì con le altre qual è la tua visione da Allegriano so che sei un fan di Allegriano non ho non ho un'idea chiara in nessun modo ho detto anche qui io cambio idea durante una partita anche dieci volte figuriamoci nell'arco di una stagione dico alcune cose il Napoli ha meritato di vincere il 5-1 mi sta qua come finita la partita il 5-1 mi sta qua però penso anche che il calcio è fatto di piccole svisature piccoli dettagli piccoli slide indoors la prima che mi viene in mente è la parata al 46esimo primo tempo di Meret se la Juventus va sull'intervallo sul 2-2 io sono pronto a firmare qui col sangue che quel secondo tempo non sarebbe stato così perché la testa la testa funziona in una certa maniera la seconda voi immaginate di andare a giocare la partita decisiva del campionato con il vostro difensore più forte che fa una partita come quella che ha fatto Bremer dove non ha mai non ha mai fatto la scelta giusta mai fatto la scelta giusta non è mai intervenuto coi tempi giusti sulla palla mai intervenuto bene in marcatura Sosimène e quello fa quello non può esserci non può esserci merito né di Allegri né di Meret di Allegri né di Meret di Spalletti né di Meret di Spalletti è un giocatore importantissimo che ti ha sbagliato completamente una partita l'errore di Allegri l'abbete detto voi è schierare una squadra così Chiesa in quella posizione un Chiesa che chiaramente oggi non può fare tutta la fascia ma quindi preferivate preferivate McKennie la destra voglio sentire l'urlare no ti inventi qualcos'altro ma Chiesa lo fa entrare nel secondo tempo come abbiamo detto se tu Chiesa lo metti dentro sul 2-1 probabilmente riesce a dare di più in quella mezz'ora e magari lo metti davanti a fare la seconda punta perché Milik era molto isolato perché è vero che Di Maria crea gioco ma Milik era sempre da solo là davanti se giochi a tre con una squadra secondo me la questione è esattamente questa la questione è esattamente questa la palla che sbatte dentro Simena del 4-1 è la stessa aspetta che ti abbiamo un po' perso come volume forse ti stanno chiamando eh no è come al solito dicevo la palla che 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 Osimena sbatte dentro lì per il 4-1 è la stessa palla che Milik mette in bocca al portiere sul 1-0 cioè io continuo a dire l'altra sera Murigno mi ha risposto alla fine sono i grandi giocatori che fanno la fortuna degli allenatori a me ragazzi questa cosa qua non vale a nessuno la testa cioè quella palla lì uno come Milik la deve sbattere dentro ce l'hai sulla testa sulla fronte a 5 metri dalla porta messo così la devi solo boom in quale direzionare basta cioè non non è quello il punto il punto è io una costante la vedo io una costante la vedo l'anno scorso hai perso tutti gli scontri diretti tranne le finali con l'Inter diciamo le hai poi in grado le fine supplementari però hai perso pure quelle e li hai persi tutti praticamente ha vinto a Roma sai come 4-3 con quel miracolo divino che è accaduto in quella giornata strana scusa Massimo le CES non fa altro confermare quello che diciamo noi se 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 i se nel calcio sono importanti come nella vita si però allora anche quando le cose vanno bene con Milik pareggi con la Cremonese pareggi no io la costante che vedo è che quando quando si alza il livello soprattutto in trasferta è una squadra che sicuramente ragione Francesco non dimostra la personalità io ve l'ho già detto Bremer che io ritengo un difensore che è e diventerà fortissimo lo ritengo tale mi è molto piaciuto ora Francesco mi dirai la tua anche su Bremer però in una giornata così è andato in bambola ha fatto un errore e non è forse ancora pronto l'altro giorno l'amico Antonellone Angelini ci ricordava Nesta il giorno di quel derby no Francesco addirittura un Nesta però Nesta gli è successo una volta sì sì lo so però era già era già probabilmente uno che noi consideravamo il più forte che c'era Nesta è stato il più forte che c'era però però io ti dico io voglio vedere cioè per me Bremer vuoi condannare Bremer no no lo so io non condanno Bremer però Roberto secondo me queste introsferta le perdiamo tutte però secondo me Roberto Bremer diventa plausibile a quella cifra se in una partita complicata e contro un grande giocatore mi fa vedere no deve crescere allora Smalling ne ha sbagliata mezza quella mezza però lo aveva silenziato quasi per tutta la partita capito questo messaggio ci mette d'accordo vediamo dice Allegri con tutti cioè Pogba Maria Vlaovic avrebbe fatto meglio magari anche di altri allenatori aggiungo io non c'è dubbio ma qualche altro allenatore magari in condizioni di emergenza così avrebbe fatto meglio di Allegri ma sono cose che non sappiamo mai ma nessuno perché io queste sono cose che per carità ma validissimo come discorso ma su che cosa lo basiamo cioè è come dire che Allegri è una grande gestore di una squadra di campioni e quindi metti quelli là così probabilmente non è quello che ti costruisce è perché la Juventus che cosa deve essere e lo so però in questo momento che cosa deve essere la Juventus e allora perché ci sono i cicli c'è stato un ciclo che è durato un determinato numero di anni e adesso si cambia e per quel passaggio lì ci vuole del tempo cioè non è che uno deve vincere a Dvinis cioè non so come non so se mi spiego è perché se no gli altri non esistono se no giochi solo tu c'è stato un ciclo allora quando la Juventus è tornata da Calciopoli quanto tempo ci ha messo per no essere nuovamente la Juventus qua cinque diciamo qua cinque eh ragazzi se no sono tutti dei padri eterni il pallone è fatto da uomini e allora Ale ti chiede cosa ha portato Allegri in questi due anni secondo me in questi due anni Allegri è l'uomo giusto per capire dove devi andare a toccare perché se no ci sono state fatte delle campagne acquisti secondo me isteriche a un certo momento è un po' invece uno come Allegri e uno come Murini io li metto sempre insieme perché secondo me hanno sono molto simili sanno dove andare a mettere le mani e non dicono balle soprattutto non raccontano balle cioè non si mettono lì a dire io sono un fenò e lui io sono quello no io ci metto il massimo allora intanto mi dicono a chiederti di Paredes e te la collego la domanda di Paredes e le difficoltà che sta incontrando al discorso dei giovani cioè Fagioli Miretti e compagnia che tanti dicono stavano facendo bene poi appena si alza il livello Allegri non ci crede nei giovani è tornato dai suoi McKennie e compagnia se vuoi andare sul centrocampo Juve Paredes giovani chi vuoi tu McKennie sì il centrocampo dico che io Paredes l'ho visto anche al mondiale per esempio fa tutte le partite dell'argentina certo allora Paredes avvicino Rodrigo De Paul McAllister Enzo Fernandez è chiaro che tu quando giochi in una mediana simile fai vedere quello che sei io lo so che lui è stato criticatissimo però vedete è un gesto sbagliato però per un tifoso quando lui scaglia quella pallonata contro la panchina dell'Olanda che gli sta sfottendo mentre vanno a calciare i rigori cioè lì ti fa vedere anche il tipo di calciatori il tipo di di testa di concentrazione di rabbia che ci mettono in campo mi pare di vedere che lui entra si mette a fare quello che può fare ma sinceramente non fa quello che lui può fare lui deve giocare a due tocchi non può fare e deve soprattutto fare l'interdizione la prima interdizione se lo metti anche lui non è che lo lo metti il loro sono costretti a portare palla in questo momento sempre a portarla sempre a portarla sempre a portarla che è un dispegno di energie pazzesco con delle punte che si muovono pochissimo tant'è che la palla la dai a Di Maria che si inventa quella roba perché sta delle categorie sopra io torno sempre lì la palla la prende Di Maria attacca il limite dell'area crea la superiorità numerica subito cerca lo scambio con la punta che gli viene incontro per andare a tirare che poi è il gol contro il Napoli quella palla che scheggia la traversa è una roba che se fangolo chiede giù lo stadio non lascia vedere con tutti i tifosi del Napoli la maggior parte però è una roba di una belle ma lì ci vogliono i calciatori e tu non puoi cioè tu ti chiami Juventus però ti chiedono Rabiolo Catelli sono tutti scarsi Rabiolo Catelli ma io non dico scarsi io dico che questa squadra si chiama Juventus per cui dei due giovani cosa pensi di Fagioli e Miritti penso penso che che se l'allenatore non li fa giocare perché io faccio sempre il paralismo tra i due faccio Milan-Roma Tairovic entra gli ultimi dieci minuti quarto d'ora comincia pum 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 i giovani hanno bisogno Barella che è stato subito giudicato uno così ha avuto una continuità tu li vedi in allenamento i ragazzi se non reggano determinate pressioni è inutile che li mandi al macello per come la vedo io Fagioli va bene poi però c'è la sigletta della Champions il Bernabeu l'Allianz Stadium e lì bisogna capire io i giovani dice Roberto Mancini devono giocare però poi se sei la Juventus e fai giocare i giovani a meno che tu non decida di dire guardate devi essere sincero e dire guardate come in questo momento sta dicendo Allegri noi giochiamo per il quarto posto per entrare nelle prime quattro cioè per fare la Champions League il prossimo anno è inutile andare a cercare altre cose Antonio Conte si è seduto davanti ai giornalisti e ha detto signori non mi chiedete di vincere la Premier perché con questa squadra qui non se ne parla possiamo arrivare tra le prime quattro? Sì mi hanno chiesto di costruire le fondamenta perché il prossimo anno o tra due anni si possa avere a disposizione una rosa un organico per andare a vincere la Premier ma adesso non me lo chiedete ci sono gli allenatori che ti raccontano balle e quelli che ti sbattono la verità in faccia è molto semplice Allora trovate un giocatore messo in risalto da Allegri direi che Rabiot probabilmente il meglio lo sta dando in questo anno qualcosa con Allegri no devo dire che un'altra cosa misteriosa è un po' su McKinney Ma perché quadrato no con Allegri? Sì però quadrato devo dire che ha fatto bene con chiunque abbiamo visto male non ha fatto Sì ma con Allegri ha trovato una dimensione secondo me internazionale quadrato che prima non aveva una cosa che non capiamo senza ora fare poi di McKinney il povero McKinney il capo espiatorio sarà un buon giocatore in squadre che funzionano di più è che tu i giovani non li hai tolti per mettere appunto Xavi e Iniesta i vali fagioli i miretti eccetera eccetera però te dovresti fare una domanda su questo Massimo cioè cioè dici perché McKinney e se taglia le cose per far dispetta alla moglie no qualcuno sostiene che non sia uno che crede nei giovani in generale ma non è questione di credere è questione però in Ken lui crede lo fa giocare sempre evidentemente ci crede dici pure troppo ci crede no però allora io ti dico una cosa tattica che non mi fa impazzire di questi mesi forse l'ha detta prima Alessandro e quando vedo Milik 20 metri davanti a uno in appoggio che per fortuna è di Maria due partite ma prima era il povero Miretti poi altri 15 metri c'è il centrocampo e là Milik che di suo è un ottimo centravanti ne abbiamo parlato spesso con te ma non è Holland né Osimen no è un'altra cosa però sta solo in mezzo a tre con dietro uno in appoggio che talvolta era Miretti cioè a volte non dico di fare i matti tu lo sai Francesco io la penso come te equilibrio razionalità senza voli pindarici però ogni tanto forse è una squadra che ha bisogno di un po' di coraggio quanti non l'ha fatto Milik? boh un po' non tantissimi no non tantissimi però ha segnato mi sembra ha risolto delle partite quella di Cremona su punizione a 30 metri quella sì però non è che Milik aveva risolto la palata ha dato il meglio ha dato il meglio quando giocava intorno a Vlaovic perché comunque faccia lui quel lavoro di raccordo ed era lui che andava a prendere la palla lui che faceva da sponda per l'altra punta quello è il lavoro che ha fatto meglio è certo perché Milik sa giocare a pallone e qui si apre un'altra però mettici uno accanto io dico è troppo ora sono molto superficiali Milik ha fatto 5 gol qualcuno dice 7 5, 6, 7 5 in campionato e 2 in semplice ah ho capito 5 in campionato e 2 in semplice con 7 gol più quello che è un gol lo diciamo è una Juve che è sterile davanti in generale abbiamo fatto pochissimi gol è vero una difesa che ne prende pochi tranne che con il Napoli ma anche davanti ne facciamo veramente pochi sì sì infatti quello è evidente che sia così però Francesco per l'Europa League io ti chiedo questo che quest'anno ha Barcellona Arsenal si vince una serie di squadre United ma è sempre una Juve pronta per me no per me no per me no per me no è una Juve pronta per giocarsi l'Europa League per me no però non so per me no se questa è una squadra che va in bambola secondo che vai a Londra con l'Arsenal non lo so no ma è una squadra a cui manca una parte una parte fondamentale perché io ribadisco Allegri è un grandissimo gestore di campioni ma nel mio modo di vedere il calcio tu devi sapere cosa fare quando ti difendi e quando attacchi ed è chiaro ed è quando sai che cosa fare che poi inserisci il genio perché il genio si esalta quando c'è uno una struttura un'impalcatura in cui tutti sanno cosa fare e se tutti sanno cosa fare l'anomalia del genio risalta di più perché è quello che ti esce fuori dagli schemi ma lo devi avere uno schema a me l'idea che quando la Juve attacca si affidi esclusivamente all'estemporaneità le idee dei giocatori che ci sono in campo Di Maria lo diceva prima San Cesco l'Argentina ha quel popò di centrocampo altre squadre hanno una struttura è chiaro che il campione farà sempre la differenza ma il campione ti farà il campione diciamo come lo intende la Juve ti fa la differenza nelle partite diciamo meno impegnative perché la differenza di qualità è talmente ampia che alla fine esce nove volte su dieci diciamo esce ma quando la qualità si scontra contro la qualità perché incontri squadre che hanno anche loro qualità cos'è che fa la differenza secondo me lì incide anche la capacità di sapere che cosa fare quando ti difendi e quando attacchi perché è chiaro che se io vedo dei movimenti e quei movimenti me li fanno tre giocatori di bassa qualità verranno in un certo modo ma io riconosco la trama se poi in quella trama tu ci innesti tre campioni o tre ottimi giocatori tre campioni c'è sempre quella trama ma ci sarà l'efficacia maggiore e anche il colpo di genio che esce da quello spartito e te lo trasforma io questo è questo che mi manca nella mia Juve io vedo una grande organizzazione difensiva in cui tutti sanno cosa fare quando si difende e lì esce la qualità del giocatore tranne l'altro giorno tranne Napoli ma può essere un caso cioè ci sta la partita storta ragazzi e giocavi contro una grande squadra bisogna dirlo che quindi sa come andarti è lì la grande perché il Napoli è una grande squadra in questo momento perché ha una grande perché ha delle robe a memoria sì ha uno spartito che va a memoria ha un modo di ma quella però è la mentalità del perché poi ripeto insomma alla fine se io vado a vedere però Spalletti ha avuto sempre squadre molto organizzate no? però gli squadetti vincevano la Juve però aveva squadre un po' meno forti eh cioè però il tuo discorso quindi vincono i campioni vincono loro per me vincono loro cioè per me è complicato è complicato parlo con con certi calciatori anche il 4-3-3 di Spalletti è complicato non c'è dubbio Francesco però ti dicono quest'anno vincono i campioni quando i campioni si scontrano contro altri campioni vincono quelli che sono più organizzati sì sì può essere però a determinate condizioni secondo me è ovvio che se sei più organizzato più è però io ti dico che a parità di classe di cifra tecnica vincono quelli che vanno più forte con le gambe cioè quelli che sanno questo anno Francesco vincono lo Botka che sembra a Xavi vince Mario Rui vincono Kim e Rahmani vincono per ora e poi vedremo alla fine cioè vincono questi Politano che è uno che non so e quindi questo che succede? cioè i campioni di Inter Milan e Juventus dove sono? in classifica secondo me secondo me molto ha inciso il mondiale il periodo che è stato storicamente peggiore di Spalletti quest'anno è stato saltato ha potuto lavorare alla sua maniera e ripeto per me Spalletti in campo è il numero uno anzi lo dice pure l'allenatore della Juventus se ve lo posso dire cos'è che dice? si si in conferenza ma Allegri ha detto che nel preparare le squadre numero uno Spalletti è il numero uno numero uno non c'è niente da fare è più bravo è più bravo c'è niente da fare e quindi c'è poco da discutere e ha dei limiti per te Francesco che su Spalletti è spesso detto su Totti ha sbagliato no no ma io ha dei limiti caratteriali secondo me i limiti caratteriali secondo me a un certo momento ci sono delle piazze che esercitano una pressione simile che magari non viene tenuta o magari è stato pure sfortunato lui che si è trovato in delle situazioni obiettivamente complicate a San Pietroburgo con Hulk a Milano con i carri a Roma con c'erano delle questioni che no su questa cosa per esempio il Napoli ha avuto ragazzi poi dobbiamo dare atto perché il Napoli ha avuto un coraggio pazzesco ma io quando è andato via io Francesco Repice io quando è andato via Coulibaly è arrivato Kim ho detto che si prendono 18 gol a partire Coulibaly è più forte di tutti ma non solo ma la personalità la pesantezza nello spogliatoio della sua opinione il suo carisma tutto cioè la sua forza eh no ho sbagliato perché i fatti mi stanno dicendo il contrario l'episodio della mano Spalletti Repice come l'hai visto sì Spalletti Repice Spalletti Allegri come l'hai visto no ma ragazzi ma sono tutte cose che ci creiamo noi no però per ridere come lo valuti per sorridere ma sì ma per ridere poi tra l'altro tra l'altro insomma vi assicuro che i due si stimano molto reciprocamente cioè perché poi noi pensiamo che sia tutto una roba quella del Napoli quella della Juve non funziona così i due sanno benissimo perché essendo uomini di calcio sanno benissimo il rispettivo valore conoscono bene il loro dirimpettaio e conoscono le qualità i limiti eccetera e tra loro si parlano magari si saranno parlati non lo so eh so veramente al telefono due ore dopo la partita si saranno spiegati le cose cioè ma non scherziamo cioè non però su quell'episodio che ti fa cioè cosa ti fa più sorridere Allegri che finga mi fa no ma perché c'era stata una cosa dell'anno scorso no o Spalletti che va là un po' con questa postura no ma c'è stata una cosa dell'anno scorso l'ho cercato lì che poi lui lì Spalletti è anche carino no perché lì Massiana è incavolato ed era chiaro che fosse incavolato no l'anno scorso eh quest'anno eh cioè eh no lì l'anno scorso è stato carino pure Spalletti quando quando ha detto è Maremma impestato ho sempre perso è stato vincuna e le vincule è successo casino Maremma impestata e allora tra i due c'è sto spirito insomma prendiamo pure le cose belle Guascone del calcio cioè non guardiamoci sempre cose no e beh è un bel confronto ha fatto lì è stato bello pure i giorni presenti alla partita si nasconde non ti metti la barba ai baffi perché cioè è bello pure quello ma mica cioè non vuol dire mica odiono anzi probabilmente è tutt'altro insomma state vendendo zaniolo eh Francesco a due lire avevi detto a cento a duecento a cinquecento voi dite questa cosa qua non lo so non letta tu che mi dice no e beh c'è uno scontro di come si chiama io forse ho capito pure come è nata questa notizia però no ma queste sono mie supposizioni quindi non però insomma vedo che c'è un giornale a Roma che parla con la voce di Murigno e ce n'è un altro che parla con la voce di Tiago Pinto e mi pare che tra i due mi pare che tra i due non ci sia un adesso l'accordo voglio dire non è che siano così no mi sembra di capire che eh che insomma no le cose non non vadano molto di pari le idee non siano proprio non vadano non viaggino sullo stesso binario ecco per dirla ma qual è non ci sono le convergenze parallele detto di Zaniolo aspetta il giornale che parla è sempre lo stesso discorso se ne va via quei soldi se no non se ne va via perché la Roma cioè siamo sempre là benissimo tutti ma se arrivano quei soldi Zaniolo va via oh fino adesso datemi atto e come ho detto io se non arrivano quei soldi Zaniolo non va via eh però quei soldi tu un tempo ci dicivi 100 oggi si legge 35 no ma quello per come sono io per come penso io se Mudric se Anthony ho visto uno che si chiama Anthony non so nemmeno è stato il mondiale del Brasile mentre Zaniolo faceva l'ho visto il mondiale del Brasile l'ho visto il mondiale del Brasile è uno che fa i rotondini e così 100 milioni ma io veramente Mudric 100 milioni eh però Grilish quindi perdiamo è successa la devastazione non so come dire una roba brutta ditemi voi io non però ci sono delle cifre che secondo me non esistono è ovvio che è una provocazione però siccome la Roma non 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 ha bisogno di soldi quindi o va via lì o a quella cifra o niente l'ha dimostrato la Roma è propensa anche al rischio di perderlo a zero piuttosto che accettare una cifra sì secondo me sì com'è oggi questa stagione della Roma Francesco voglio dire anche di Inter e Milan con te al del Napoli abbiamo già detto ragazzi al momento fenomenale mi dici un po' di Roma di Inter e di Milan qualcosa? perché il Milan attraversa la sua prima crisi a due o tre anni si può dire attraversa la sua prima crisi evidente io l'ho visto dal vivo l'altra sera con la Roma non mi aveva fatto perché poi anche lì tutta la cosa eccetera eccetera e il Milan ha tirato meno in porta della Roma quella sera meno di riporta questo numero di statistiche perché ah non si può giocare 80 mil ha tirato meno in porta ti ho dato più la palla ti importa meno infatti o uguali o più la Roma però insomma quello è Milan sta attraversando il primo periodo difficile secondo me hanno tutto per venirne fuori perché sono bravi perché hanno un allenatore un allenatore bravo intelligente un allenatore che tutti hanno sempre detto fosse un predestinato poi non è stato fortunato ha sbagliato determinate scelte però insomma mi dico che sia molto molto bravo perché abbia veramente tutto sia un tecnico completo l'Inter ha registrato la difesa e registrando la difesa si è messo a fare il gioco che sta proprio nella partita con Napoli ha chiuso benissimo tutti gli spazi ed è andato via come sa andare via solo che è andata via come sa andare solo via l'Inter quando trova certo ha bisogno di Dzeko che come vi confermo è di un'altra categoria questo è l'esempio è un'altra categoria secondo Gordy Lookman ma che partita è? Atalanta Spezia Atalanta Spezia Coppa Italia no Coppa Italia lo so Atalanta Spezia ok stasera c'è Juve Monza magari due parole le diciamo alla fine dimmi Francesco e sulla Roma secondo me sta facendo quello che deve fare con l'organico che si ritrova e con i problemi che ha avuto per come la vedo io e ha una garanzia assoluta che si chiama Giuseppe Morino che è la vera garanzia della Roma anzi è la vera garanzia dei tifosi della Roma ma è vero che non fa progressi mi dicono alcuni amici romanisti oppure anche là il solito dibattito è un po' sterile ma progressi a proposito di che? con l'italiano? no no dico la squadra cioè che sta che sta crescendo questa squadra dopo un anno e mezzo di Morigno oppure tu la vedi sempre un po' altalenante diciamo ma io non vedo niente di altalenante io vedo che ai quarti di finale di Coppa Italia hai gli ottavi di Europa League ed è quello che è in campionato a due punti dalla seconda quinta sesta settima quinta sesta settima a due punti dalla seconda quello che conta non è qui due punti dalla seconda quattro quattro no sono quattro sicuro dalla seconda sì sono tre dalle terze diciamo Juve Inter e quattro dalla seconda siamo tutti lì vedo questo vedo che al primo tentativo è arrivato ha vinto una coppa poi non lo so io probabilmente che c'è il tabellone spianato in Coppa Italia davvero Cremonese Fiorentina e Torino Cremonese Fiorentina o Torino e comunque bisogna giocarle le partite è troppo tempo e la Roma non si gioca neanche una finale di Coppa Italia secondo me no no sono d'accordo ma è proprio questo il punto e poi soprattutto è un allenatore che viene davanti di Michelofi e ti dice io voglio io voglio questo io voglio quel giocatore io ho chiesto questi giocatori qua perché questi giocatori qua io vinco io sono qua per vincere non lo so io ripeto per me va bene così oltre tutte la squadra che non ha avuto Wijnaldum praticamente dall'inizio è una squadra che ha avuto di bala a mezzo servizio altra giorno con la Fiorentina io ho fatto pure lì la radiocronica perché le uniche doppiette che mi si concedono sono quelle venerdina partì e domenica all'altra come sabato e martedì adesso e la prossima settimana cioè il prossimo turno dopo domani e poi Lazio-Milan salita Napoli 2-1 da quante mesi non vince la Coppa Europea Francesco? è pochi era maggio giusto? e ora diventano un po' cominciano a diventare un pochettino però ho capito ma devono arrivare alle finali non sei impaziente senti siccome Alessandro ci deve lasciare Francesco poi tra pochi minuti ti liberiamo però Alessandro ci deve lasciare Ale mi dici qualcosa anche in vista di questa doppia a proposito cosa ti aspetti io spero spero in una Juve che riprende il cammino interrotto a Napoli almeno sul piano dei risultati però io per formazione ritengo che i risultati siano una conseguenza del gioco gioco e campioni gioco e campioni la Juve ha fatto ecco una cosa che mi fa ben sperare è che noi magari in questo momento di grigiore perdiamo di vista anche le cose buone la Juve sta seminando bene secondo me sta seminando molto bene parliamo dei giovani fagioli miretti ma abbiamo Rovella abbiamo Ranocchia abbiamo Barbieri di cui mi dicono un gran bene il terzino destro della Nesgen l'idea di una squadra Nesgen cioè che si misuri non nel campionato prima mera ma con i grandi andando a giocare sui campi dove incontri anche qualche trentenni dove c'erano quelli che si erano a buscare il pane di chi è stata l'idea di chi è stata l'idea di Andrea Agnelli è stato lui che ha voluto no 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 dell'allenatore della Juventus e ora ora Allegri ha deciso no no è chiaro ma chi è che l'ha convinto a questa cosa questo io non lo so è una vita che ne parliamo lo sapete che è una vita anni anni fa mi diceva io voglio capire a che sei cioè tra il campionato primavera e la serie A c'è un abisso una cosa capito che non si ha un'idea e lui da una vita diceva ci vogliono le seconde squadre come in Spagna che vanno a giocare come diceva non la cantera quelle altre insomma che vanno a giocare il campionato perché lì trovano quelli di 32 33 34 anni che se devono guadagnare la pagnotta e che li gonfiano come le zampogne e cominciano a capire che il pane è duro nel pallone e cominciano a farsi una mentalità ma è una vita che lo diceva e infatti mi sembra che la Juve sia l'unica squadra assolutamente sì confermo che è l'unica squadra e ritengo che sia una delle mosse più azzeccate in prospettiva futura perché è lì che vedi da subito se hai veri giocatori in mano poi non a caso Ressandro scusa l'interruzione solo per un attimo le parole di Agnelli ieri sì sì e riguardavano proprio questo riguardavano proprio questo Agnelli sicuramente ha detto anche un'altra cosa molto interessante Francesco che si ricollega a quello che abbiamo detto all'inizio delle squadre con multiproprietà cioè adesso stiamo andando verso grandi gruppi che comprano fondi la bandiera e poi le squadre satelliti negli altri campionati che è una formula che che se ci pensate è è una roba che può essere rivoluzionaria per il calcio non so se in positivo o negativo non bellissima dai detta così non bellissima direi però è così però è così che vanno a comprare le grandi squadre e poi si fanno le squadre satelliti è così è su quella linea che sta andando il calcio e guarda caso le prime squadre sono proprio quelle inglesi ora ti ringrazio aspetta volevo chiedere a Francesco Manuel dice se è vero che l'abolizione e la schiavitù è stata merito di Allegri capito si scherza si scherza si perché è buona buona è una cosa non sta meglio di quella roba lì che abbiamo visto all'inizio esatto questa è un po' di giocosa Alessandro intanto ti saluto e ringrazio Ale grazie a voi sempre un piacere a Francesco ciao a tutti e poi è sempre un piacere parlare con Francesco Roberto tu hai che curiosità per Francesco su Inter Mila Juve Juve Monza anche parliamo un attimo io posso dire questo che la Juve è l'amico ora mi dite anche cosa ne pensate in vista di questa cosa la formazione che mettono coloro che seguono di più la Juventus è questa la vedo da Romeo la formazione prevista è una formazione non titolare ma non proprio zeppissima mi pare di di riserve sarebbe no oddio comunque Perin Gatti Rugani Danilo poi McKennie Fagioli Paredes Miretti Healing Junior sulle Ken oddio forse sono tutte riserve però comunque non proprio non è proprio una formazione improponibile ripeto Perin Gatti Rugani Danilo McKennie Fagioli Paredes Miretti Healing Junior sulle in appoggio a Ken parlavo con l'amico e quindi McKennie torna a destra rispetto alla squadra che ha giocato con Napoli ci sono Danilo e McKennie Danilo e McKennie e no poi un'altra cosa invece chiedevo all'amico Luca Momblano qualcosa sul Monza lui mi ha detto dico la formazione forse li conosce Francesco più di noi perché lui segue tutte le squadre mi ha detto ci sono 7-8 titolari su 11 non mette terze linee non mette proprio tutti i titolari ma è un buon Monza che è Cragno Marlon Caldirola Izzo Ciurria Pessina Sensi Carlos Alberto Colpani che non conosco Macchin sei italiano Petagna dice provata ieri Caprari e Dani Mota in panchina Birindelli Junior squalificato è quasi la formazione titolare che partita vi aspettate ragazzi stasera difficile con tante difficoltà tanti problemi se non segna subito se non fa gol subito passano 20 minuti cominciano i problemi 20-25 minuti e allora cominciano i mugugni cominciano le cose deve mettere qualcosa se fa gol se fa gol presto la Juve la nasce fuori bene se no si trascina come è successo in Napoli cremonese fondamentalmente se si trascina diventa diventa un problema in casa in casa Roberto che ti aspetti stasera? io come ormai mi succede da qualche anno questa parte quando gioco la Juve non ho mai certezze né in un senso né nell'altro approccio sempre con grande tensione preoccupazione fa tema d'animo qualsiasi partita sia come vedi Francesco non siamo tranquillo niente leggi qua pronostici 0-2 0-1 con questa formazione usciamo ormai c'è un ottimismo ragazzi vediamo secondo me ci piallano 0-2 se vanno in battaglia però ho detto però purtroppo incontriamo un Monza in palladino mamma mia come è in palladino ti sta piacendo ha approcciato bene no Francesco però sì 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 secondo me fa una cosa molto più semplice molto più tranquilla Giovannino Stroppa io l'avevo molto criticato a Crotone un paio di stagioni fa proprio perché c'è questa cosa che bisogna per forza sempre creare fare costruire anche voglio dire con giocatori non proprio top dal punto di vista tecnico io invece sono convinto che poi alla fine tu puoi costruire come te pare organizzare come te pare però se gli altri sono più forti tecnicamente è bene che tutti metta lì dietro e tiri i cazzotti sputi i calcioni e c'è chi li porta a casa la pelle ecco io la vedo così però io penso a un calcio evidentemente molto arretrato ma detto questo io è chiaro che sto ragazzo qui con idee molto semplici molto chiare molto lineari sta facendo qualcosa di importante tu d'altronde hai imparato ha imparato il pragmatismo credo proprio la Juve è in un periodo difficile della Juve peraltro per cui è stato uno di quei calciatori che era la Juve nel momento di transizione cioè dal dopo calciopoli fino alla alla costruzione di una squadra vincente quindi insomma sa come si fa ha visto qualcosa ma il campionato è finito? nel senso manca un gironi quindi no ma intendo dire per te è già molto indirizzato? no molto indirizzato mi sembra ovvio che sia molto indirizzato però bisogna starci molto attenti perché poi sapete qua il fatto stesso che noi si discuta dopo otto vittorie consecutive e zero gol presi di una sconfitta seppur rovinosa come di una disgrazia alla quale non si può porre rimedio immaginate cosa potrebbe succedere se il Napoli pareggiasse o perdesse un paio di partite di fila basta sono morti hanno perso tutto non giocano più io mi ricordo le partite dopo l'Inter le critiche vedi ecco senti mi dite rispondiamo per giocare un attimo salutiamo Francesco invece Roberto lo tengo qui se ti fate la squadra nelle altre leghe tutti i figli in Argentina Boca Junior giusto? sì Boca Junior non è come la Roma ma qua siamo lì insomma ok in Inghilterra dovresti sceglierne una così le maglie tutti ci innamoriamo no è proprio è uno dei campionati lo so io sono non mi attrae per nulla quel campionato Roberto tu ce l'hai una squadra così da ragazzo ora preferita con simpatia e ondiva che dipende dai periodi storici sì anche io a me boll Arsenal io ho giocato a calcetto tanto con la maglia dell'Arsenal era la mia squadra una squadra simpatica però boh per dirti quando Viagli si simpatizzai per il Chelsea sì è vero con il Viagli certo Francesco quando il Caranieri il Navallester ti favo l'ester a te non l'ho chiesto un ricordo di Luca Viagli Francesco io a te lo devo chiedere per forza lo so è un sì però vedi ci sono delle persone che ti lasciano sempre io non ho ho avuto un rapporto con Gianluca Viagli anche in nazionale lui è uno che si faceva vedere pochissimo sostanzialmente magari per dei motivi contingenti però le poche volte che ci ho parlato Viagli ha dato sempre la presenza di una grande eleganza un uomo di una sobrietà e di un'eleganza e di un buon senso che che veramente ho riscontrato difficilmente nel pallone poi devo dire sono stato felicissimo che che ci siano state quelle immagini di colui voltato di spalle verso i rigori di Giorginio prima e quello sbagliato da Stagà con la mia voce sotto quello mi ha riempito di di orgoglio devo dire la verità insomma è una cosa che mi rimane dentro trattandosi di un personaggio così importante ho avuto sempre l'impressione di una persona di di una eleganza ma non so ma anche per come si vestiva quindi l'eleganza la prima cosa è uno proprio dice elegante elegante una persona elegante la stessa lo sai chi mi dà la stessa impressione sempre Paolo Maldini ah beh cavolo altro varie illustre le persone che si presentano in quella maniera là a me piace molto piacciono molto tutto qua poi per il resto sono tragedie talmente grandi che insomma no no giustamente Conte ieri lo diciamo ha fatto un discorso sulla famiglia l'importanza nella vita nel momento in cui si ragiona dice lui si è visto portare via Gian Piero Ventrone Senisa Mihailovic Gianluca Vialli tipo in due tre mesi alcuni veramente poi all'improvviso come Gian Piero Ventrone e altri che erano purtroppo malati malati dopo quella è un'altra questione Francesco che mi sembra complicato affrontare no tu lo sai per me è stato pure un po' sgradevole lì poi lì poi sono lì poi altro che i processi cioè lì arriviamo secondo me al al delirio cioè non so come dire ma non è che delirano calciatori che dicono io ho paura perché cioè è legittimo per chiarire ma arrivare a creare delle teorie per cui secondo me non lo so c'è gente che se laurea in un giorno in medicina e se specializza la notte in come si chiama in roba non lo so ragazzi non ci sono statistiche che dicono che la mortalità per la mortalità oncologica nei calciatori nella categoria dei calciatori è più alta che in altre categorie cioè sono proprio robe così sull'onda emotiva di quello che succede sull'onda emotiva si parla sull'onda emotiva e questa è la cosa triste Roberto di cose però serissime e l'onda emotiva nelle cose serie non ci deve mai entrare perché io posso pure dire che chissà quanti calciatori delle serie inferiori no? tipo chi come me è arrivato a livelli infimi magari faceva la seduta del flebbo il giovedì perché erano vitamine ma chissà chissà quanti giocatori che non si conoscono non si sa che siano hanno avuto dei problemi ma noi non abbiamo nessun riferimento scientifico questa è come la roba di quelli di che i mascherini non servono a niente i vaccini le fanno diventare UFO robot cioè ognuno si ha dicono delle cose terribili parlando di cose serie però l'argomento è serio non si può sparare così devo dire Francesco che in questo per esempio di no baggio secondo me però non aiuta chi parla così nel senso che lui hai detto bene può esprimere un altro ieri oggi brambati tutti e due che Raduccioio anche Raduccioio voglio sapere cosa mi hanno dato e quello ci sta voglio sapere cosa mi hanno dato in quegli anni lì dire voglio sapere cosa mi hanno dato in quegli anni lì perché non voglio fare la fine di Mialo Vecce Viali inagazzata no certo io però lì però Roberto lì essendo come dire parte in causa il giocatore che esprime dice sai io ho fatto determinate pratiche e loro sanno quello che hanno fatto perché noi non possiamo sapere che non eravamo là e magari hanno un po' di paura magari quelli più impressionabili si preoccupano di più cioè è anche un fatto caratteriale però ragazzi quando facevano questa roba qua se la facevano a quell'età lì erano già uomini e tutti io ricordo Paolo Valdini che disse io la creatina a dire che non la prendo è che a me mi fa male lo stomaco quindi non la prendo non me ne frega niente cioè allora quando è padre di famiglia è uomo tanti dicono il medico sociale mi diceva alcune cose mi facevano bene e quindi le prendevo noi quando andiamo dal medico di base e ci prescrive dei medicinali non è che andiamo a sindacare sui medicinali che ci prescrive perché siamo convinti che lo faccia per il nostro bene quindi non mi sento nemmeno di dare mettere in croce i calciatori che a 23 anni prendevano delle cose perché il medico sociale Roberto però se senti gli effetti quel giorno cioè Francesco ha fatto un esempio Maldini dice qualcosa non mi quadrava perché non stavo bene allora mi faccio ovvio poi a quel punto sono i calciatori che l'hanno fatto dicendo io non si è certo che però lì fai parte di un business Roberto il privato che va lì e dice signor medico signor dottore io oggi non sto bene che mi dai tutti i fili lì però devi anche renderti conto con tutta la gran cassa mediatica che c'è attorno a sta storia del pallone è che tu sei una specie di finanziaria che cammina e per cui fanno di tutto per farti rendere in una determinata maniera ma Francesco non solo la finanziaria che cammina perché avevo un compagno di liceo che a un certo punto andò a giocare al Parma fino a lui ha giocato la primavera poi ha fatto un'onesta serie di C quelle cose lì lui ci raccontava che ad ogni pranzo tutti i ragazzi schierati gli davano delle robe da prendere e tu quella cosa lì la prendevi perché eri un ragazzo che giocava in una società professionistica e ti dicevano di prendere quella roba lì perché era per la tua forma fisica per il tuo bene perché e tu la prendevi e lui mi diceva io non so cosa mi danno no non lo sapeva nessuno ma quindi le preoccupazioni sono secondo me come dice Francesco anche legittime diciamo che il massimo non è a morte appena venuta così dire no ma soprattutto non c'è una correlazione scientifica massimo noi dobbiamo andare appresso alla scienza dobbiamo andare appresso alla legge se cadono queste basi se cadono questi architettori cioè è la fine di tutto ma vi ricordate che la barbarie vi ricordate che la stessa cosa avvenne sull'onda emotiva della malattia di Borgo Novo e di Signorini sulla SLA da cui poi nacque anche l'associazione di Mauro e Vialli per raccogliere fondi sulla ricerca e quella è una mossa furba ovvero tu raccogli i soldi per la ricerca e quindi certo per cattivi gli sportivi sono più soggetti alla SLA perché il morbo di Geri l'erba esatto e poi alla fine il disermante non ha non ha non ha non ha non ha non ha anche se c'era una a un certo momento tutti eravamo molto preoccupati perché Beatrice e quelle quell'altro e tutti quelli della Fiorentina lì mi pare e quegli altri ancora cioè si crea una specie di psicosi però la psicosi si crea se c'è una base scientifica se non c'è una base scientifica ma di che parliamo io non lo so io boh ma rivedo infatti però ci vuole bisogna essere su temi complicati dove la confusione non aiuta a dire per dire Dino Baggio ha detto gli integratori cioè tutto l'Egittio però non si può fare casino in quei periodi non si è capito se parlasse due anni con Viali e la Juve che ricordiamo Dino Baggio è pre discorso di processo e compagniera con Boniferti e Trabattoni no no ma lo dico questo non a te alcuni è stato al Parma Dino Baggio Dino Baggio non ha contestualizzato in un periodo non so però però è un casino non si capisce niente cioè come dice Francesco i timori sono legittimi io sono convinto che gli sportivi professionistici probabilmente siano portati dai medici anche a volte a quasi non dico essere delle cavie quello no però portarsi ai limiti no purtroppo viene quasi considerato un rischio connaturato ai guadagni alla popolarità mentre ovviamente la salute viene viene prima io sono convinto che si debba approfondire come sempre non mi piace quando si approfondisce volendo accusare una squadra un giocatore appena che appena si approfondisce così quando vengono sparate delle balle delle cose in un argomento così serio secondo me è una roba che non ci sta tu puoi sparare balle su questioni di lana caprina ma su questioni serie che invece non si può parlare a vanvera non è giusto non funziona così il mondo non vanti così insomma se ci sono delle persone che studiano determinate cose e mi dicono no guarda non abbiamo dimostrato nessuna relazione tra l'eccesso di integratori l'eccesso di quello l'eccesso di quell'altro e delle malattie oncologiche io a chi do retta ma insomma ragazzi cioè siamo sempre alla solita storia di Firenze che mi diceva quando Zoff era allenatore gli deve dire a Zoff come che deve giocare a Secas e non Landucci come se noi gli andassimo a spiegare a Zoff come se c'erano i portieri è una cosa stasera in panchina Balanducci perché è squalificato Allegri che c'ha è squalificato incazza pure lui intanto lo vedo che perde le staffe e poi mi fa ridere quando perde le staffe mi fa molto ridere e ogni tanto si infuria si 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 infuria si infuria io però in certe cose io per esempio vedo dei calcieri che fanno determinate cose specie indeterminate in fase della partita quando stai vincendo o quando la partita è in bilico e tu gli ultimi minuti fai la giocatina davanti all'area di rigore io lì impazzisco io lì io lì mi viene da oppure adesso vedo che la cosa sta un pochino cambiando vedo che cominciano a tirare in porta forse perché vedono dei campioni come l'ho già detto più volte arrivano al limite dell'area e fanno il tiro a giro io lì proprio mi viene proprio da entrare in campo ma per qualunque squadra mi avrebbe voglia di tuffarmi in campo e di dire vi prego non lo fare mai più perché sono fastidiosi io ero abituato a quei centravanti che rompevano le porte e quindi insomma mi piacciono li preferisco come dire Senti Francesco succede qualcosa in questo mercato o no e poi veramente ti saluto ti aspetti qualcosa no ma secondo me succede poco succede poco perché succede se ti vengono a prendere dall'estero i giocatori c'è un interessamento dell'arsenal per Zanion c'è ok e in quel caso ti scopri qualcuno e in quel caso lì ti vai a comprare De Paul che ha rotto con l'Atletico di Madrid e che non gioca e che che non so se ha rotto perché io adoro è che a Zampini non piace no no io dico che non sono per il max investimento se ce l'ho in rosa mi piace secondo me non è quello quando ho avuto avvio della tunese c'era l'asta 45 cioè ma calma bravo Francesco io ho visto al mondiale il mondiale ha fatto un mondiale strepitoso mamma me ragazzi un mondiale strepitoso mamma me mamma me purtroppo Massimo non capisce di calcio quindi non può apprezzare questo è sicuro poi soprattutto Massimo lo vedi a ricevere lui è una bestia vera? sì sì no no lo so che sia anche fisicamente di carattere eccetera eccetera o quando tira in porta si è sposta l'aria? sì proprio quando è andato all'Atletico io ho pensato subito bah infatti poi in Italia forse con questo livello di campionato che abbiamo però grande protagonista dell'Atletico non lo so Lippo perché se non è andato bene con Simeone non ho ben capito cosa sia successo sinceramente so che sul mercato questo lo sanno tutti che però però ci vogliono 35 non c'è verso cioè non ecco se io penso che il Chelsea ha preso un mudri caccetto e che non va a prendersi le polli a te ma probabilmente al Chelsea sono più bravi di me Cucumella questi qua sono più bravi di me cioè non vanno fortissimo e ti chiedono un parere delle uscite di Cassano contro Allegri no cosa volete che dica se non risponde il diretto interessato potete che risponda io cioè se il diretto interessato ha deciso di non rispondere nemmeno mi sembra di capire di Alessandro me lo prenderei anche magari non per 77 milioni però secondo te Allegri è più solido che mai alla Juve Francesco nel futuro oppure questa nuova dirigenza cambierà un po' tutto dipende dagli obiettivi no dipende dagli cioè se tu dai credito ad Allegri per dire guarda costruiamo le basi per io sono convinto che lui sia in grado di fare un lavoro simile vediamo è chiaro che ci sono delle 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 tentazioni no cioè per il De Zerbi che sta facendo benissimo 2 a 2 o 3 a 2 sto vedendo una bella Atalanta in fase offensiva ma in difesa mamma mia è un problema che hanno da un po' di tempo però adesso dovrebbero aver recuperato Palomino e Jim City che dovrebbero andare a puntellare esatto metteranno un pochino anche si godrà due anni da stipendiato in vacanza come ha già fatto dice David ragazzi dici buttalo via no nel senso che se c'è qualcuno io ricordo i giudizi su Ancelotti non lo so è come se il passato non contasse nulla in questo mondo non lo so è come se uno dimenticasse di fare l'allenatore non si avesse dimenticato le metodiche di scelta di determinati calciatori il posizionamento in campo per me è abbastanza complicato che questo accada però può darsi che abbiano ragione loro e cosa volete capire cioè praticamente Klopp sta facendo ridere a Liverpool o Klopp non vale più nulla che ne so perché questo pure no Klopp non vale nulla perché a Liverpool non sta andare con quella squadra lì non sta facendo e Klopp non vale più nulla e questo è il ragionamento io non lo seguo mi dispiace non lo seguo io ripeto secondo me la Juventus avrebbe dovuto continuare con Andrea Pirrolo fino cioè mettersi in quella situazione poiché i tempi giustificavano e anche le condizioni finanziarie giustificavano una conduzione tecnica di quel tipo però dire che non è più allenatore secondo me è da folle come dire Ancelotti che era bollito come dire che Murino l'altra volta mi ha scritto e ha detto Murino è arrogante incompetente cioè quindi 26 trofei con l'incompetenza cioè la pacheca ci sono più trofei che investiti è incompetente è che vuoi fare è incompetente però noi siamo quelli competenti è così basta caro Francesco grazie mille per tutto come sempre grazie a voi grazie a voi grazie davvero Francesco Remici buona giornata a tutti ciao buona serata a tutto campo come sempre con Francesco caro Roberto caro Roberto leggigli la mia domanda qual era Gianni Play non ho fatto in tempo tutto dai rispondiamo noi alla domanda per Repic dai Gianni rifalla a noi vi dico la verità Zaniolo quest'anno così è così quindi Olo prendi veramente a prezzo di saldo vero vero e ci investi a quel punto sul futuro per farlo crescere oppure mi sembra più solido De Paul davvero insomma De Paul è uno che ha fatto il mondiale la titolare della squadra campione del mondo a quella cifra forse prendo prendo lui Francesco Perfetto Francesco Repice quasi all'Angelini cioè o lo detestano o lo adesso Repice ti querela esatto no però per fortuna so che si conoscono scherzano tra loro quindi si può fare ma se no non l'avrei fatto questo per no però scherzi a parte è uno che divide sempre ma forse divide Roberto perché siamo in mezzo a questa contrapposizione ma no perché anche Francesco è un po' assolutista quindi ha delle posizioni su cui si arrocca e quindi come tutti gli assolutismi trovano ovviamente posizioni contrarie o assolutamente favorevoli l'Angelini fa morire dal ridere politicamente discutibile sì vabbè qua parliamo di calcio è ben più che discutibile ma in generale parliamo di calcio qua Angelini e Repice nella stessa frase no bravo Pavanello bravo Pavanello in generale così è l'ora intervistare Zampini certo ora dobbiamo fare questa cosa quindi allora volevo dire una cosa che mi sta qua sul gozzo dalla fine di Napoli Juve e che avrei voluto prima dire mentre parla a Francesco ma non ho trovato il tempo di inserirmi con la mia solita diplomazia che un po' mi contraddistingue vorrei dire che la scena di Spalletti che insegue Allegri con la mano tesa è una imbereconda pagliacciata che se l'avesse fatto il mio redattore mi sarei vergognato ti aggo hai vinto 5 a 1 vergognato ora calmati non è che debba urlare allora una cosa mi dicono che Alvino mi ha taggato intanto vi dico che non mi ha taggato finivo chissà frega seconda cosa non mi ha taggato ma mi ha hashtagato il terzo praticamente mette l'articolo su Ronaldo dice difensori ora tocca a voi ci penserà Rai 2 con i suoi ospiti Zampini cioè io ho fatto un'apparizione di 5 minuti in vita mia sulla Rai su Rai 2 e sono quello come dire chiamato costantemente la carta di Ronaldo che inguaglia la Juve abbiamo parlato all'inizio lo ricordiamo ancora ragazzi lo ridico io diffido diffidate da chi vi dice non vale niente ma diffidate anche da chi vi dice col titolo assertivo inguaglia la Juve come dire hanno trovato la prova tutti sanno su cosa si dibatterà tra due mesi e più con la c'è l'udienza preliminare il 27 marzo il dibattimento fronte a plus valenze lo sappiamo circa il tema sugli stipendi il tema è Luca Momblano che bella sorpresa ciao Luca ciao vi sentite la frase sugli stipendi il tema è Luca Momblano dicci quanto guadagni comunque ne abbiamo già parlato all'inizio è solo perché qualcuno mi ha chiesto un parere abbiamo già detto all'inizio su questo discorso Ronaldo che è la seconda manovra stipendi non la prima tra l'altro ne dibattevo proprio con Luca in privato c'è molta confusione anche e non è una questione semplice in generale quindi diciamo diffidate da chi vi dà risposte semplici in un senso o nell'altro tipo dagli Alvino di turno però anche da chi vi dice non sarà nulla il tema che ho detto è che la procura verosimilmente considera questo un impegno già formale efficace conclusivo che la Juve non aveva registrato già nel bilancio mentre la difesa è la Juve sarà considerarlo come un accordo ancora eventualmente da perfezionare sottoposto a condizione eccetera eccetera e quindi la domanda è che dovevo mettere nel bilancio questo l'ho fatta molto semplice spiegata così ma il mio appello è prima ancora che cominci il dibattimento come non è normale dire saranno colpevoli la carta che inguaglia crisi cosa rischia così dall'altra neanche dire tutta fuffa finirà tutto in una bolla di sapone perché la Juve è molto concentrata sulla difesa la prende molto sul serio lo avete visto ne ha parlato anche ieri Ferrero quindi sarà un tema interessante di dibattito di dibattimento quando parleranno tutte e due le parti si comincia domani sul tema plus valenze perché anche lì la Juve si difenderà spiegando perché secondo lei è concentrata sulla difesa di quanto ha fatto a Napoli a Bremer spero non sia il Bremer di Napoli chiudo a parentesi Lucone se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente lo aggiungi tu su questo tema domani c'è alle alle 12 si riliscono in canale di consiglio per la questione eh però penso che parlino ma io a quanto ho letto poi non so credo che non arriverà domani la sentenza potrebbe arrivare forse nel weekend si bravo è una cosa credo a breve la giustizia sportiva è molto rapida semmai comunque la sera di giorno dubito che sapremo qualcosa credo che parlerà non so come funzioni questo tipo di processo sulla revocazione una cosa rarissima la credo che parlerà chi ha chiesto la revocazione parlerà sicuramente la difesa e poi si ritireranno in camera di consiglio sul popolo dovrà essere acclarato che ci sono degli estremi di maggiore gravità rispetto alla sentenza di assoluzione precedente quindi non solo devono dimostrare se sono cose nuove ma che sono più gravi di ciò su cui c'è stata la soluzione nuovi più gravi e decisive vedremo un po' ragazzi vedremo un po' domani se influenza il clima pubblico se non influenza ripeto non è che se ragazzi però scusate io diciamo che non ne so più di voi ovviamente il lato giustizia sportiva le cose succedono spesso in fretta eccetera ma oggi almeno tre due sicuramente grandi quotidiani nazionali hanno già detto cosa accadrà domani ah sì? eh sì ah non l'ho letto questo io l'ho letto dici dici dove si mette a parte danno già per per scontata la riapertura la revocazione quindi la riapertura del processo non l'ho letto assolutamente sì basta a chi l'ho scritto Luca? mi pare Piccioni su Gazzetta con un lungo approfondimento con già il titolo molto eloquente molto chiaro e senza se e senza ma e credo anche credo anche Corriere forse ieri sicuramente Gazzetta l'ho avuto tra le mani e anche leggendolo non è neanche troppo un editoriale ma un'anticipazione su un taglio basso però tutta pagina quindi se è un'anticipazione vuol dire che loro hanno già parlato con i giudici che hanno già detto loro cosa decideranno cioè prima ancora che ci sia il dibattimento? Sostanzialmente sì quindi sarei molto già di per sé dovrebbe invalidare dovrebbe invalidare qualsiasi processo allora scusatemi fatemi chi è entrato adesso? ah no Luca no Luca è entrato uscito ah ok non l'avevo sentito no ho sentito un entrato uscito allora scusate una cosa siccome c'ho Piccioni davanti di solito lo leggiamo perché di solito ho informato nel senso molto no anche prima che accadano le cose no come dire e allora quello che dice però Piccioni è Juve processo la procura chiederà certo riaperture e sanzioni dice no ma aspetta ma tu cosa stai leggendo la gazzetta di oggi 19 gennaio Piccioni dice il 20 la corte d'appello della Federcalcio deve decidere se riaprire il processo sportivo e in caso quali potrebbero essere le sanzioni il conto è rovescia sa per finire domani la corte dovrà rispondere a due domande è giusto riaprirlo il processo e se sì la Juve e le altre società assolte primavera che sanzioni dovrebbero meritare il tema l'abbiamo imparato a memoria vabbè lo spiega così e cos'ha nella sua richiesta di revocazione ha sottolineato come il quadro sia del tutto cambiato in occasione dei primi processi il cuore dell'accusa era rappresentato da una ricognizione sui valori vabbè transfer market eccetera ora intercettazione è il quadro istruttorio più robusto non ci sarà una fase 1 e fase 2 nel senso il procuratore illustrerà il suo punto di vista ok e chiederà le sanzioni cosa chiederà impossibile fare un pronostico di certo una richiesta di riapertura è un atto giuridicamente molto forte non solo nell'ordinamento sportivo ma è anche vero che in occasione dei precedenti processi sono state chieste solo molte inibizioni senza penalizzazioni la carta di Torino lo convinceranno a spingersi oltre le decisioni arriveranno subito comunque alla fine di una camera di consiglio potrebbe anche sconfinare lunedì ma il verdetto sarà espresso su tutte e due le questioni riapertura o no sanzioni o assoluzioni dopodiché nella storia ci sarà posto per altri capitoli la procura federale potrebbe deferire altri club e proseguire sul fronte della discussa manovra stipendi che fino a poche settimane fa era considerato molto più delle plus valenze il vero non è scoperto ma però non è che si esprima molto mi sa di titolo fatto o prima del pezzo dice ok il titolo di oggi è questo oppure un titolo volutamente spinto ma io non ho capito una cosa io non ho capito se però in tutto questo domani deciderebbero sulla questione no credo invece leggendo qua leggo domani si decide no no domani domani devono decidere solo se riaprire il caso e poi domani chi ne presenterà le proprie richieste di sanzioni ok vabbè vedremo un po' non lo so dai comunque stiamo a vedere Luca andiamo verso Juve Juve Campo o se hai notizia fuori dicele ovviamente ma no io ho ascoltato anche oltre a fare una grandissima live stanotte bello bello bravo secondo me abbiamo toccato un pochino i punti nevragici di quella che è stata la giornata di ieri devo dire con la community che ne sentiva anche il bisogno ha partecipato molto compreso me compreso me si può dire no ma tu hai passato entrato due minuti hai scritto due messaggi per far dire che c'era e poi tu sei andato dai no io ero lì ero lì e vi ho detto state facendo polemiche su nulla Ferrero Ferrero contro Agnelli sembrava hai ascoltato male detto questo detto questo ieri già abbiamo fatto un pochino diciamo affrontato un po' questo argomento della gara di oggi avevamo anche mister Francesco che tra l'altro ha caricato tutte le slide sul Monza abbiamo anche trovato proprio attraverso le slide quindi la testimonianza proprio visiva opulare e pratica l'azione tipica del Monza offensiva e io e io che l'ho diciamo così l'ho immagazzinata questa sera ovviamente accetterò qualunque cosa tranne che prendere gol su quell'azione lì ma tu ci vedi Luca tu ci vedi anche o no io vi vedo perché posso mostrare forse sono queste Monza 1 ci puoi dire cosa vediamo c'è l'azione tipica del Monza che Monza 3 esatto sono tutti gol te le puoi spiegare con lo stesso tipo di situazione di gioco offensiva palla diciamo in qualche modo per liberare l'esterno o sulla corsa o palla al piede massimo in situazioni di uno contro uno palla dietro dietro al dischetto comunque non crossata ma giocata per il cosiddetto giocatore a rimorchio spesso questo giocatore se le fai rivedere qua il Carlos Augusto che arriva dall'esterno che è un esterno e chiude dentro non viene seguito da nessuno poi se vai su quella dopo il cross è dalla destra e farà gol qui l'attaccante invece di forzare il tiro è Petagna appoggia a rimorchio col Pani gol col Pani che giocherà questa sera e qui azione in questo caso sulla destra di nuovo non c'è il cross ma c'è la palla per Carlos Augusto di nuovo ripeto che parte dall'esterno quindi non ha una situazione di uomo contro uomo perché l'esterno dell'altra squadra spesso non segue dentro il campo l'avversario e anche qui Carlos Augusto farà gol qui Caprari questa volta dalla sinistra di nuovo due giocatori dentro quindi si potrebbe pensare difesa schiacciata perché lì ci sono due situazioni per un cross no palla rimorchio in lunetta gol di Caprari quindi io ho detto stasera va bene tutto tranne mi ha convinto mister Francesco non voglio prendere quel gol lì lo dico per il resto abbiamo analizzato anche un attimo la gara io ho sentito anche un quarto d'ora vostro in quale hai anticipato più o meno le due formazioni quindi sappiamo quali sono i punti di equilibrio la Juve si schiaccia un po' verso il basso come valore assoluto degli undici in Monza non troppo nel senso che giocheranno sette ottondicesimi della titolare soprattutto quelli che stanno in questo momento sono i due punti di forza sono i due giocatori che stanno riuscendo a tenere alta la fase offensiva del Monza ma anche alta l'intensità che sono i due esterni Ciurria e Carlos Augusto difesa tre classica per loro io li ho visti con l'Inter ha fatto una gran partita secondo me gran partita ma prima che della qualità proprio di grande intensità hanno tenuto i ritmi alti e l'Inter che voleva controllare la partita come si controlla la bestia per le corna detto che ci sono stati degli episodi sui quali risultato assolutamente legittimo tra l'altro il Monza pareggia proprio alla fine ma è un pareggio meritatissimo è una squadra che ha cuore il Monza ne vedo poche in Serie A è una squadra che ha acquisito cuore e anche noi dovremmo avere quella componente di cuore oltre che magari di entusiasmo visto che giocano tanti dei giovani che vorremmo facessero bene tutti insieme fagioli miei retti insieme dal primo minuto la seconda volta mi fa in stagione Eling Sule stesso Gatti banalmente quindi diciamo che il gap in partenza non è così spinto nostro favore però tante volte sulla carta eravamo nettamente superiori abbiamo sofferto contro squadre di questo lignaggio quindi ben venga però secondo me non è un impegno semplice sono abbastanza d'accordo con Repice quando dice che se la Juve non segna subito può essere una parità molto fastidiosa è vero che i cambi della Juve non sono i cambi del Monza ma il Monza in panchina se viene confermato l'ultimo test di palladino di ieri comunque ha due armi in avanti non molte negli altri reparti devo dire sugli esterni non ha quasi cambi che sono Dani Mota e Caprari che è un po' l'uomo del momento Luca il bus promesso da Berlusconi ah non convocati a me ma scusa non convocati a me risultavano convocati non li hanno portati Leviatano ci scrive non convocati vediamo ora posso anche cercarlo sul Monza a me risultava non convocato di Gregorio il portiere titolare infatti giocherà Cragno ma non convocato di Gregorio e Birindelli squalificato ma Cragno fa il vice di sì sì perso il posto molto in fretta di Gregorio uno dei punti di forza della squadra a sentire i tifosi del Monza sembra Buffon però devo dire out scuola inter out Caprari e out anche mi sembra vedere Dani Mota l'abbiamo detto mi avevi già informato Luca e Birindelli Junior è squalificato ogni tanto dico Junior con post latino ogni tanto Junior all'inglese vabbè un po' come Healing esatto perché Healing dico Junior perché in inglese e in italiano dico Healing JR esatto e aspetta e poi quindi non ci sono proprio Dani Mota Caprari e non c'è abbiamo detto Birindelli e invece torna Rovella che credo fosse riduce da un piccolo infortunio beh io sapevo che non erano stati provati ieri sapevo che non erano stati provati nella titolare quindi pensavo fossero a seguito se non li evidentemente avevano qualche problema torna Rovella da cosa cioè un infortunio o da una Rovella era fuori per infortunio però è tra i convocati ieri non l'ha provato nella titolare qualche giornale ho visto qualche giornale anche locale io sono qua in Lombardia danno anche la possibilità di giocare Rovella e non Sensi però insomma il livello è quello c'è una squadra comunque posso dirvi che stasera allo stadio in città farà un freddo becco cioè farà veramente freddo condizioni per giocare a calcio non proprio ideali ma oggi chi ci aspettiamo in tribuna in quei posti Ferrero e Scanavino nei posti di Agnelli e cavolo oggi comincia una nuova ragazzi non so io sono appassionato di questo a questo tema Agnelli ha chiuso con un 5 a 1 vediamo come aprono come apre a Torino almeno ha chiuso con una vittoria 1 a 0 assolutamente sì super goal di Capitan Danilo non me lo ricordo come era bello sotto porta no no grande chiesa grande chiesa no è vero vediamo come aprono Luca dai dimmi io sono curiosissimo più originoso per me ti aspetti a quei posti là dello stadio i nuovi e ti aspetti che ne so che anche a lei Grannelli sia parte del passato allo stadio oppure te l'aspetti so che non sono questioni fondamentali ma io sono curioso vabbè posso rispondere così idealmente penso che Agnelli non ci sarà e penso che Ferrero e Scanavino saranno saranno assolutamente in tribuna devono esserlo è ancora fresco tra virgolette l'insediamento queste parole che 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 a loro dire li mettono assolutamente in prima linea e votati in ogni goccia di impegno di sudore alla Juventus ricordiamo che Scanavino e Ferrero si occupano anche di altre cose quindi non so quanto il 101% possono essere dedicati ma le parole di ieri mi sono sembrate un tentativo di di esprimere proprio l'impegno in Juventus 24 ore al giorno però però quindi io me li aspetti aspetta Luca devono esserci e quindi devono esserci Scanavino al momento non si occuperà di altro che non di Juve perché i suoi incarichi in Gedi sono passati quindi Scanavino sarà concentrato sull'Iventus e basta non ha più altri incarichi nel gruppo c'erano più in Gedi scusami no non ho questa notizia passato la mano certo abbiamo l'ex numero uno di Manzoni che adesso ha preso il ruolo di direttore generale per permettere a Scanavino ha preso il direttore generale ma non è amministratore delegato questo direttore generale da dieci giorni però appunto perché è operativo prima è un ruolo che non c'era no invece vorrei chiedere una cosa Luca che tu che sai sempre cos'è all'interno ha preso qualche delega ma non ha preso il suo ruolo qualcosa ancora secondo me in Gedi mi risulta però va bene va bene ci sta che sia un primo passo ci sta che sia un primo passo questo sì no no va bene scusa dicevi Roberto Luca nella struttura Juventus al di là dei vertici che sono già ma questo Claude Alain che tutti i giorni viene a stimolare Claude Alain Claude Alain allora ripeto non è stato sostituito l'incarico di amministratore di Scanavino ad aprile in Gedi ci saranno alcune diciamo mosse strutturali importanti direttamente parliamo sulle testate giornalistiche non so se in quell'occasione sarà anche l'occasione per 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 mutare la posizione di amministratore delegato che magari riporta via mezz'ora al giorno questo non lo so però intanto è una doppia carica che so che qualcuno in Gedi storce storce un po' il naso perché perché comunque Scanavino aveva garantito il fatto che lui sarebbe stato assolutamente il suo futuro in Gedi a prescindere da questo passaggio in Juventus così effettivamente non dovrebbe essere nel senso che anche a noi risulta che insomma io penso che che non possiamo ragionare Scanavino su sei mesi mi sembra un dirigente che ha voluto anche entrare anche nel lessicalmente dentro la Juve quindi almeno un paio d'anni li deve fare molto bene dedicato alla Juve io posso dirvi che avendolo conosciuto che umanamente è una persona molto per bene molto piacevole non è ha dei modi sempre molto garbati è molto torinese ecco quindi immagino che i suoi modi adesso li porterà anche in in Juventus ma chi parla solo Allegri il mio solito dubbio no? solo Allegri parla ecco questa è una domanda che in qualche modo volevo fare a Luca che avevo iniziato a fare al di là dei vertici e no ma mi avete interrotto al di là dei vertici dei vertici uè ciccio al di là dei vertici che sono già mutati che tu sappia Luca nei prossimi settimane mesi gli avvicinamenti continueranno area sportiva area comunicazione area gestione oppure rimarranno le figure che già ci sono attualmente ma io penso che per quanto riguarda la stagione in corso le figure sono queste poi è chiaro che a ridosso della partita Allegri ha lo status e il mandato per poter essere anche l'interfaccia con i giornalisti per quanto riguarda le questioni di campo è chiaro che dovessero commentare o esserci insomma notizie più ridondanti che riguardano altre sfere per esempio il GUP per esempio la Superlega tra l'altro entrambi argomenti credo poi di marzo dovesse arrivare questa storia arriverà un qualcosa dal discorso della revocazione è chiaro che su quello Allegri non c'entra nulla e gli verrà anche chiesto di non essere però il referente se voi immaginiamo stasera qualcuno che va a parlare io immagino Allegri a meno che Scanavino come capo azienda voglia portare anche i riflettori su di sé ne avrebbe ne avrebbe anche forse la necessità per certi versi perché comunque noi sappiamo che le scelte che ci saranno in queste settimane in questi mesi per la ricostruzione poi completa dell'organigramma Juve anche del lato che ci interessa di più oltre al lato extracampo di cui Scanavino ha voluto anche farcene ieri credo che comunque saranno in qualche modo messi in capo a lui quindi lui non si sottrarrà non mi pare volersi sottrarre da questa responsabilità però insomma Juve Monza per me parla Allegri ci sta Luca qualcuno ha scritto di Conte dell'intervista di Conte dice sembra una candidatura tu l'altro giorno hai parlato del fatto che ti risultasse un accordo tra Agnelli che per ora non c'è e Conte e Conte lo ricordiamo ancora una volta ha detto praticamente che tutti questi episodi di quest'anno di questi mesi anzi delle tre persone che lui teneva così tanto che non ci sono più l'hanno fatto riflettere quindi dice la famiglia Torino e poi dice ogni due anni farli cambiare non lo so insomma ha fatto dei discorsi e qualcuno ha interpretato come una sorta di autocandidatura sì è la prima volta che li esplicita però io credo che tante volte ne abbiamo fatto cenno per quello che ci arrivava sul fronte anche anche col suo rientro e poi ha casato all'Inter ma anche la strana esperienza a Milano comunque lui prima non si portò la famiglia a Londra poi la porta poi la porta a Milano poi la famiglia rientra a Torino lui riparte per Londra la situazione delle tre figure a cui lui fa riferimento i tre amici sono cose molto più diciamo poi più recenti riferimento ovviamente a Ventrone a Vialli a Mihailovic è un qualcosa che può aver messo un po' il carico se vogliamo nelle riflessioni di lungo corso Conte sappiamo da tempo che vuole che non vive bene diciamo in questa esperienza al Tottenham soprattutto la distanza dalla famiglia che mi permetto di dire questa volta probabilmente non ha voluto per scelta la ragazzina la figlia ormai è una ragazzina quindi ha anche voce in capitolo non è è un preferito restare a Torino credo che si va incontro anche alla possibilità di Conte fermo un anno ecco e l'equipe è una possibilità nel senso lui lui ovviamente ha lavorato per il rientro alla Juve adesso per i referenti sono cambiati l'equipe riporta me lo dicono in tanti non ho guardato dove come con che con quanto spazio quale spazio però ricorda il fatto di Zidane dice la Juve resta in pole per Zidane la candidata e il candidato numero uno numero uno per per la panchina della Juve Luca Zidane non ho letto questo questo nuovo eventuale articolo dell'equipe quindi 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 io ho messaggio nella chat privata di Pavanello che scrive chiudiamo siamo qui da 16 ore così mi ha scritto non so come lo valuti tu no io io sul Zidane se devo riportare un contatto se devo riportare un contatto diretto non sono in grado di farlo in questo momento posso posso aver intercettato qualche riflessione qualche commento che però sono davvero in un momento così così di di discosso dentro la società anche secondo chi te lo dice bisogna tenerli come come dei piccoli post it e basta mentre su Conte ho documentato una notizia che invece ritengo di avere intercettato in maniera diretta e che sicuramente aveva del clamoroso qualora fosse stata una notizia e oggi la lo derubicata come un retroscena che è una cosa diversa allora cioè il patto cioè il patto Agnelli Conte per il rientro risalente a settembre ottobre l'accordo finale tanti abbonati che non si vedono la pubblicità beati loro hanno tante possibilità Alessarti 85 vamos Gian Pippo Miab o Mayab 82 poi Marco Logan New York City due anni di Juventus Gian 10GX AM 95 Pig Corea poi James JJ Littoria 85 un anno di Juventus fiducioso nel nuovo corso fatto dai tecnici revisitori e commercialisti ma il mio presidente resta sempre Andrea Agnelli è un arrivederci Lo Zamblano Paolo Berton Donald 66 Vittorio Comerio dice perché nessuno parla mai della senza di tecnica nella serie attuale a parte il Napoli gli altri hanno pochi giocatori tecnici Sky Blue Tonino Black and White Kubrick scritto in modo particolare Stefano Serpe Merisio Asfarto eccetera 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 un po' di abbonati come li ho letti Luca così e così no dai sei e mezzo ci siamo ci siamo dai ragazzi allora andiamo verso ma per forza sta cosa degli abbonati sì perché vogliamo farvi abbonare sempre so che voi sognate di farvi leggere da me non dovete vedere pubblicità e tutto il resto ragazzi quindi dovete impararla questa cosa dovete abbonarvi e su YouTube ci guardate mettete like canale iscrivetevi campanellina eccetera eccetera se no i nostri contenuti ragazzi poi non vi arrivano peggio per voi allora allora miei cari dai io vi saluterei non so se Luca tu vuoi stare tanto a lungo qua o eri di passaggio no no io ero qua per un saluto ottimo per entrare insieme a voi in clima partita e ricordo che dalle 20 ci sarà il pre partita la gara alle 21 e il dopo partita sarà un cocktail micidiale perché si sommano i nostri classici alcuni dei nostri classici ospiti del dopo partita con i classici ospiti del late show e quindi ne uscirà qualcosa di esplosivo vedremo un po' pre partita dalle 20 se non sbaglio Luca giusto? 20 un'ora d'anticipo sì pre partita dalle 20 alle 21 live match e alla fine correte qua misto tra late show e post post partita Luca aspetta dici qualcosa Luca domani sarai con me ah chiedi Luca per domani sera domani sera c'è il format di mister gatta non deve vederci Luca magari domani gli chiedo anche se fa un salto alle 2 così ci preannuncia bene cosa accade domani sera in seconda serata il bar di mister gatta lo vedrete bene lui preannuncia dice non farò prigionieri niente diplomazia uno contro l'altro ci ha spaventato quasi vi dico quindi ve lo guardate il venerdì sera magari diamo un'occhiata anche noi perché sono molto timoroso di quello che può accadere là Luca alle 2 domani sarai con noi o no in qualche modo o ti riservi di decidere in last minute sarò a Torino un po' inguaiato ma un commento tecnico non lo si nega mai anzi sai che io sempre voglio riparare di calcio il giorno dopo le partite è sempre il giorno più bello allora ragazzi vi devo salutare Luca Momblano Roberto Pavanello Alessandro Tavellione Francesco Repice ciao a tutti forza Juve ciao